Buongiorno a tutti e nel rivolgerevi il mio saluto iniziale vorrei subito esprimere anche la mia riconoscenza per la vostra presenza, per l'adesione a questa proposta che è stata fatta non soltanto al clero ma anche a laici, a persone consacrate ed è una presenza ad un incontro di aggiornamento del clero che nasce dalla collaborazione tra la rivista del clero italiano e anche della formazione permanente del clero della diocese di Milano. Grazie anche a chi in queste settimane avrà modo di recuperare questa giornata attraverso il video che sarà disponibile in rete nei prossimi giorni. Un grazie particolare lo vorrei rivolgere anche a nome di tutti voi alla rivista del clero italiano, in particolare alla sua redazione e a Don Giuliano Zanchi, direttore di questa rivista. Grazie per quella cura di cui l'arcivescovo Mario Delpini ha parlato lo scorso anno. È la cura dell'Università Cattolica per il clero italiano attraverso questa rivista che da poco ha superato i cento anni di servizio e che continua la sua azione formativa in modo sempre rinnovato. Grazie allora all'Università Cattolica non solo per l'ospitalità di questo appuntamento ma per quell'apporto speciale della cultura accademica per la migliore comprensione oggi del ministero presbiterale e diaconale e per la missione stessa della Chiesa in questo cambiamento d'epoca. Un apporto che passa attraverso la rivista rivolta a tutto il clero italiano e che oggi diventa anche incontro in questa Università Cattolica di Milano e auspico che questo rapporto tra il clero e l'Università dei Cattolici Italiani si approfondisca sempre di più. Il tema scelto per questa giornata nasce da un confronto tra alcuni membri della redazione, della rivista e dall'equip della formazione permanente del clero di Milano. In particolare gli anni subito dopo la pandemia sono stati caratterizzati da un intenso ascolto del clero diocesano che l'arcivesco Mario Delpini ha realizzato attraverso gli incontri delle classi di ordinazione presbiterale. Da questi appuntamenti sono stati raccolti osservazioni, necessità, temi sul vissuto presbiterale e diaconale. Tra questi è emersa la necessità di una parola che tocchi la vita. Lo stesso nostro ministero appartiene a quella parola che è buona notizia, è vita piena. Eppure sperimentiamo come le nostre parole, anche nella preghiera, nella predicazione, nella liturgia, sembrano scontate, lasciano indifferenti molte persone. sentiamo il bisogno di rivisitare la nostra comunicazione, il nostro linguaggio, perché sia più vicino alla gente, offra parole capaci di unire e aprono soprattutto al futuro nel rispetto dell'immagine dell'uomo e nella speranza cristiana. Ringrazio allora le persone che interverranno in questa giornata di aggiornamento e che ci aiuteranno ad addentrarci insieme in questo lavoro perché le parole diano vita. Grazie a tutti. Grazie. Mantenere la parola è l'impegno incessante di Dio e di riflesso è anche l'ambizione del cristianesimo e della Chiesa che, nei loro limiti storici, hanno il desiderio di essere significativi e autorevoli anche in questo contesto storico così radicale. Nei luoghi della vita abbiamo l'impressione qualche volta di parlare un dialetto, di non poter contare su una lingua comune e di esporci in discorsi che vengono percepiti come insignificanti e spesso insignificanti anche per noi. La vita oggi corre svelta e le parole faticano a starle dietro, specie quelle cristiane che sembrano più affaticate di altre. E quindi abbiamo ancora parole che danno vita e non si limitano a veicolare delle idee o a dare degli ordini. Mantenere la parola di essere in quanto discepoli del Signore significativi e autorevoli significa anzitutto ritornare umilmente nel luogo della rivelazione, che per noi ha il suo appuntamento rigeneratore nel comprendere nuovamente le scritture, farne di nuovo la nostra lingua madre, che ci riapre un orizzonte prima ancora che metterci a disposizione delle parole. Mantenere la parola in secondo luogo significa anche parlare la lingua della vita, dell'esperienza delle cose che si danno, dello scambio simbolico che le anima, della cultura e dei saperi, per non diventare ingenui fornitori di risposte senza domanda. E parlare con autorità, che è la prerogativa del Signore, è frutto dell'umiltà e si indirizza ad un ascolto che bisogna sempre meritare, e anche quando vuole essere dialettico che bisogna essere capaci anche di sostenere. Spesso oggi le parole in circolazione sono burocratiche oppure avvelenate. Parlano del mondo della vita o per astrazione oppure nel rancore. Facciamo la sorpresa che per sentir parlare della vita, per come essa è davvero, qualche volta bisogna rivolgersi alla letteratura, alla poesia, ai romanzi, che raccontano e dicono quello che è, ma lo dicono con compassione, con comprensione, con pietà, come sentiremo persino con umorismo, che serve a non diventare intransigenti. Sentiamo anche intorno a noi e qualche volta anche dentro di noi delle ferite che si possono rimarginare soltanto con delle parole, parole che guariscono, che riconciliano, che restituiscono coscienza, fiducia e coraggio, e ci chiediamo oggi dove e come trovare parole che guariscono. In questa giornata di formazione vogliamo riflettere su questi nessi e sul nostro desiderio di rendere ancora autorevole la testimonianza credente, che se non attraversa i nostri corpi e le nostre vite non affiora nemmeno sulle nostre labbra. Il programma dei temi e dei relatori fa capire che la formazione dei preti deve trovare ispirazione anche al di fuori dei consueti, dei consueti saperi ecclesiastici, confidando in una fraternità culturale che ridà ossigeno alla fiammella dei nostri discorsi. I temi di questa giornata, inoltre, sono rivolti alla formazione dei preti, ma hanno interessato e interessano anche molte persone che non lo sono, che non sono preti e che sono qui con noi e a cui sta a cuore il ministero della Chiesa di cui siamo tutti partecipi. Anch'io ho dei ringraziamenti da fare per chi rende possibile questi momenti, anzitutto Don Ivano che ha lanciato questa idea che è al suo secondo appuntamento, Don Ivano l'anno prossimo sarà già una tradizione e lo devo ringraziare che lui ha più fede di me in queste cose. Devo ringraziare la redazione ristretta della rivista del clero che è il posto dove discutendo insieme si cercano percorsi di approfondimento anche per i temi di questa giornata e quindi approfitto, colgo questa occasione per ringraziarli pubblicamente e nominarli Luca Bressan, Roberto Maier, Aurelio Mottola, Alfonso Colzani, Teresa Bartolomei, Francesca Peruzzotti e Pierpaolo Triani. Quello che gentilmente leggete sulla rivista del clero è soprattutto il frutto del loro impegno. Con Aurelio Mottola devo ringraziare anche lo staff di Vita e Pensiero per l'organizzazione di questa giornata. Naturalmente grazie ai relatori che avremo modo di salutare, ai moderatori dei singoli appuntamenti, un grazie particolare ad Alessandro Zaccuri che mi ha aiutato molto nell'organizzazione di questa giornata e poi un grazie a tutti voi per essere qui, per essere attenti lettori della rivista del clero italiano, che spero riesca a essere una risorsa per tutta la Chiesa italiana, specie per chi lavora nella trincea della testimonianza in mezzo alla gente. E adesso cominciamo. Il tema di una vitalità della testimonianza cristiana e dei suoi discorsi si chiama in causa un orizzonte teologico che porta il senso della parola molto in alto e molto in profondità e per questo non potevamo non rivolgerci a Don Pierangelo, che ringrazio di cuore di essere qui, davvero di cuore, il quale ci disegnerà la cornice teologica entro cui collocare anche gli interventi che ascolteremo dopo e più tardi. Sono sicuro che lo farà andando ben oltre il titolo che gli abbiamo assegnato come mero spunto di partenza. Il titolo è il discorso autorevole, dire con verità, parlare con persuasione, ma sono sicuro che ascolteremo molto di più di questo. Allora buon ascolto a tutti. Grazie ancora a Don Pierangelo e a lui la parola. Molte grazie. Ecco si sente. Molte grazie per tutti e per l'iniziativa e anche per la vostra partecipazione. A dire la verità preferirei che foste vescovi, perché a me sembra che vi è dovuta una parola più generosa dall'alto, lo dico con molto affetto, con molta fraternità, che va bene combattere il clericalismo, però bisogna anche, diciamo, trattarli bene, quelli che sono a remo nel frattempo. Sono anche più pochi, quindi diciamo sarebbe un discorso... non è che sto indietro, mi capita anche di farlo con i vescovi, quindi voi immaginate che l'ho fatto prima ai vescovi, quindi non sentitevi solo voi in colpa di dover fare le cose. C'è una parte anche per loro, ma la mettiamo tra parentesi. Allora faccio in due momenti questa riflessione, questa sintetica riflessione, poi non so ci saranno le domande, forse il dibattito, quello che c'è, va bene tutto. Ispirandomi a una convinzione che mi sono formato in questi ultimi anni, io sono vecchietto, quindi ho fatto in tempo a maturare, a crescere lentamente in tanti anni, e in questi ultimi anni mi vado convincendo che il compito più interessante, più prioritario, non è un'alternativa, però in questo momento il compito prioritario della teologia non è tanto quello di spiegare la Chiesa al mondo, ma di spiegare il mondo alla Chiesa, che ho la sensazione che ancora non l'ha visto arrivare, quello che c'è, che non è quello dei manuali, capito? La modernità, l'illuminismo, la secolarizzazione, è diverso, guardate, è anche tanto diverso, quindi cercherò di lanciare qualche, no, qualche sguardo sulla, sulla stretta contemporaneità, ecco, che non è quella del cliché abituale, la secolarizzazione, l'allontanamento dalla Chiesa, queste cose, capito? La seconda, la seconda linea di sfondo che spiega questa, spiega, insomma, dà la cornice a questa riflessione, è appunto riguarda la parola, riguarda la capacità della parola di nutrire l'immaginazione teologica. Nessuno si scandalizzerà perché voi siete adulti e vaccinati se io dico che l'incarnazione di Dio, fatto che tu vedi Gesù e a un certo punto la fede professa l'incarnazione di Dio, è un lavoro dell'immaginazione, non è che tu lo vedi a occhio nudo e di Gesù fa le cose, immaginazione teologica, dice no, questo è il figlio incarnato e l'unione ipostatica e la redenzione, diverge, ma immaginazione nel senso forte, quindi non è una cosa che si può ridurre, la impoverisci, capisci, impoverisci il suo realismo, se la riduci a una semplice descrizione, a una semplice definizione, come dire, ti do il concetto che ti rappresenta la realtà. Tanto più se tieni conto del fatto che, anche dal punto di vista del modello ideale di un'incarnazione della divinità, che è pur sempre un esercizio di immaginazione, che nell'antichità è stato fatto più volte, Gesù moltissime volte non corrisponde. Lo scopri che dovrebbe difendere la religione e invece la critica. Sabato è per l'uomo, non l'uomo per il sabato. Sarebbe come dire, i comandamenti sono per l'uomo e non l'uomo per i comandamenti. Aiuto! Si muove qualcosa. Dice alla donna cananea, dice alla signora che gli mette il profumo, abbiamo letto ieri noi nella nostra liturgia questo episodio, dice vai la tua fede ti ha salvato. ma non ha neanche fatto l'itinerario catecumenale questa qui, non ha fatto quel bel percorso che ci siamo inventati noi. Immaginazione teologica. Tu gli vai dietro e dici ma qui c'è una potenza con la quale non avevo fatto i calcoli, no? Noi adesso, con tutto rispetto perché le condizioni sono cambiate, lo so e quindi è necessario farlo, però bisogna anche non essere ossessivi nelle cose. Io nella mia infanzia ho fatto dodici ore di catechismo in tutto, nell'intervallo tra la una e le due, intervallo della scuola. Il prete ci radunava nel salone teatro, mi ricordo, eravamo seduti sulle spalliere delle sedie, sapete una volta c'era quelle sedie, no? Nel salone teatro dell'oratorio e ci facevo un'ora di catechismo. Dodici ore mi hanno dato la prima, la seconda, la terza comunione e anche la cresima. Allora, con tutto rispetto e senza presunzione, non mi pare di essere uscito così male. adesso la catechesi dei bambini è al limite del baccellierato, cioè con un piccolo sforzo in più io gli darei il baccellierato, che dura anni. Allora, bisogna anche avere il senso delle proporzioni, tanto più che voi avete un catechismo che non c'è dentro neanche una poesia, vi rendete conto? Come è fatta fare un catechismo senza dentro una poesia? Persino la liturgia, che è così seria, osservante, c'è il gloria, c'è dentro le poesie. Il credo che noi diciamo alla messa è più poesia che dogma, no? Che dottrina, che teoria, no? Ed è bellissima, è narrazione, è anche molto elegante, con delle frasi fulminanti che noi ci siamo persi. Generato, non creato. Chi è che sta sul... Sì, a scuola avete studiato che è contro ario, no? Ecco. Ma ti rendi conto cosa vuol dire? Perché non hai detto emanato? Non ti basta luce da luce? Che è generato? Questa metafora così carnale? E l'immaginazione teologica dice, no, per noi generato fa la differenza. Essere figlio non è come essere prodotto, come essere emanato, come un replicante, come uno che si divide in due, è tutto un altro. Generato è un'altra cosa. Generato, va bene. Adesso faremo il centenario del concilio di Nicea. Sapete, il concilio di Nicea, che non era fatto semplicemente dai professori, cambiò l'uso semantico della lingua greca per far posto all'immaginazione teologica di ciò che significa figlio di Dio, figlio eterno di Dio. Fino a Nicea, nella lingua greca, gennetenta, generato, e poi etenta, creato, fatto. Erano sinonimi, si riferivano alla nostra esperienza. E nessuno dei due andava bene per Dio, perché Dio non comincia, no? Non viene fatto, non c'è niente di fatto. in Dio. E i padri di Nicea dissero, poi etenta va bene per noi, gennetenta va bene anche per Dio. Accidenti. E noi diciamo generato, non creato, ci passiamo sopra. Generato. La prima parola dell'assoluto non è sostanza, è generazione. E qui, senza immaginazione teologica e quindi senza esperienza viva della parola, di ciò che significa generazione, anche nella nostra esperienza pur limitata, come fai a dargli un contenuto, no? A creare un'affezione, dice generato, tu pensa, generato. Non emanato, prodotto, causato. Generato. Caro, che bello. E così dopo, quando vieni alla storia di Maria, la madre di Gesù, capisci anche tante cose, no? Che quello lì, quella generazione, è il simmetrico di qualcosa che è stato inventato prima in Dio. Siamo noi che imitiamo la generazione di Dio, non Dio che imita, si adatta alla nostra, capisci? La prima parola è generazione. Non c'è nessun essere autosufficiente in tutto l'universo, neanche Dio lo è. Padre, figlio e spirito santo. Il padre non è il figlio. Non c'è un principio di autoreferenzialità, che dice uno sta bene quando è solo con se stesso, quando realizza pienamente se stesso. Capisci? Eh, questo è, a cascata, tu immagina cosa può diventare, in una cultura come la nostra, dove l'autorealizzazione, appunto, è il frutto di una perversa immaginazione teologica. Essere come Dio. Noi insegniamo i ragazzi a essere come Dio. Farsi da sé, essere se stesso, trovare se stesso, sapere chi si è, è la miseria. Stanno morendo di questa roba e noi gliela insegniamo. Stanno morendo di questa. Questa cultura moderna, secolarizzando l'idea di Dio autosufficiente, ha insegnato loro che l'obiettivo è realizzare se stessi. Da sé. E dopo dici, mi pare che sono diventati un po', siamo diventati un po' narcisisti. Eh, hai voglia. Gli ha insegnato l'ontologia di questa roba e adesso si rendono conto. Ecco la stretta contemporaneità. Negli ultimi dieci anni si sono resi conto che l'operazione è fallimentare e di fondo nascono depressi. Sanno già che non si può, anche se ripetono la parola. E se glielo dici, dice certo. L'importante è essere se stessi, l'hanno imparato da noi. Ma sanno che si affonda in quel modo lì. E comprendono di non essere all'altezza di questo obiettivo, né della competizione che esso scatena, no? Non ce la posso fare, non ce la posso fare. E glielo hai insegnato tu. Che si doveva fare. Ecco. Allora, primo argomento che riguarda appunto la cultura che ci preme e insieme anche ci sollecita. Partiamo proprio dalla persuasione, che è la parola d'ordine adesso, no? La fede non si impone. Passa attraverso la persuasione, quindi la libertà dell'adesione. Abbiamo incominciato a parlare della proposta cristiana. Come la proposta è cristiana. Dopo, in sagrestia, diciamo che il Vangelo è una questione di vita o di morte. E fuori per il marketing, diciamo, è solo una proposta. Tra quelle in circolazione, vedi tu, e magari carichiamo la dose, dice, però è la migliore se si diventa cristiani, si è più contenti. Vengono meno le vene varicose, si risparmiano brutte malattie. Allora, partiamo da questa persuasione. La persuasione è una storia, è arrivata fin qui e gli ecclesiastici se la stanno bevendo, ma sarebbe meglio sapere della sua storia. Persuasione è, all'inizio, una divinità. L'inizio della nostra cultura è una divinità. Come tutte le istituzioni, il bello della cultura greca è questo. Per ogni tema fondamentale dell'esperienza umana c'è una divinità addetta. Eros, c'è Afrodite, c'è Marte, c'è Minerva, c'è... Eh, vabbè. Una divinità. La divinità della persuasione. Quella che cerca di neutralizzare la violenza bruta. Questa divinità, dicono gli antichi greci, ha due luoghi di esercizio privilegiati. Guardate, quei vecchiacci ne sapevano veramente più di noi. Due luoghi della persuasione. Due luoghi privilegiati. Il sesso e la politica. Infatti, ancora noi, ancora adesso, diciamo seduzione, no? Quando la persuasione applicata al sesso è la seduzione, la capacità, appunto, di attrarre, sedurre, condurre, attrarre, attrarre. E perché lì? E certo. Perché lì, se non c'è la persuasione, è violenza pura. Capisci? E la politica, lo stesso. Se non c'è persuasione, c'è dispotismo, no? Però, però, proprio in questi due luoghi, se la persuasione si storta, se la seduzione serve per attirare in una trappola, se il consenso popolare diventa demagogia, no? Trucco per eccitare la folla, dice, non ti sparo addosso, ma ma la folla inneggia, vedi? Mi vogliono. Noi abbiamo preso molte cantonate nella storia, le ultime che abbiamo preso sono di queste le piazze della protesta che ci fanno molta tenerezza, eh? Molta tenerezza. Ma che hanno mostrato, appunto, che si tratta di una persuasione equivoca che viene strumentalizzata facilmente, facilmente. Allora, se si storta, si storta prima di tutto nel sesso e nella politica, cioè nelle relazioni della collettività e nelle relazioni dell'intimità, che sono i due poli, insomma, della vita corrente, no? Diciamo. Si storta lì. E se si storta lì sono guai. Il paradosso è che se si storta lì la persuasione produce legittimazione della violenza. Il dittatore viene votato. Quando viene votato è più difficile, no? È impossibile trattarlo come dittatore perché ha raccolto la persuasione e lo stesso vale per il sesso. Quando sono due persone libere e consenzienti, che vuoi da me? Eppure, se si storta, è peggio che la violenza dell'assalto, capisci? Ecco, gli antichi lo sapevano. Difatti hanno inventato la tragedia. La tragedia è più importante per la nostra cultura. L'invenzione della tragedia greca è più importante dell'invenzione della filosofia. Ma noi non c'è sto a scuola, non si insegna niente di questo. Perché è più importante? Perché la tragedia greca mette in luce la nostra impotenza nei confronti della cattiva persuasione, della sbagliata persuasione che si insinua nel sesso e nella politica, no? Edipo, i rapporti antigone, i rapporti fraterni, i rapporti politici che si meschia. Vedi, la tragedia tratta di queste due cose. dice lì, guardate, la persuasione non basta. Antigone pensa di obbedire alla legge, non di fare un colpo di testa, no? Creonte pensa di obbedire alla legge. Edipo sta attento a tutto, cerca di fare quello che è giusto. e poi arriva l'inaspettato, il tragico. Scopri di aver fatto il contrario. Questa è l'esperienza umana. Vale anche per la religione? Urca. Certo che vale anche per la religione. Ecco, ti rendi conto. Quindi la persuasione non basta, eh? necessaria ma insufficiente. Se non c'è qualcos'altro, la persuasione conduce, no? Fa ritornare il pericolo che voleva allontanare, caricato di legittimazione, con una sorta di giustificazione, capisci? Allora, la filosofia, ecco qui l'importanza della filosofia che tenta di guardare a questo fenomeno e dice, sì, la persuasione per evitare i suoi danni, la sua perversione, diciamo, eh? Diventare seduzione che corrompe, appunto, no? Scusami, poi versare un po' d'acqua, grazie. Deve tenere dietro, deve seguire attentamente le orme della verità e della giustizia di aletria, cioè di quello che è accertabile, eh? non di quello che è immaginato e di diche di quello che deve essere. E la grande battaglia con la sofistica è questo, no? Che accompagna l'inizio della filosofia. filosofia dice la persuasione se non tiene dietro, lo dice già Parmenide, Parmenide. Nell'inizio rivelato della sua filosofia che i vostri ragazzi nella scuola laica, ma anche cattolica, non imparano, eh? Poema di Parmenide, prima è un racconto di rivelazione e dopo quando la rivelazione ti ha aperto gli occhi c'è la strada della filosofia. Va bene, ma comunque la battaglia è questa, persuasione senza verità, senza giustizia e come si fa a raccordarla alla verità e alla giustizia con logos, con la ragione che è anche parola, che è discorso, discorso argomentato, discorso che cerca di dimostrare, la verità e la giustizia, quello che è giusto, quello che è benissimo, contro la sofistica, la retorica che dice invece la persuasione è tutto, un discorso, un logos abbastanza abile ottiene lo stesso risultato, indipendentemente dalla verità e dalla giustizia. Grande battaglia, fatto le sue vittime, Socrate. cosa succede? Succede che la nostra cultura, dopo l'invenzione della filosofia, a partire grosso modo da Aristotele, che dopo abbiamo imbarcato anche noi, la nostra teologia, ha incominciato un percorso di lotta della parola della verità e della giustizia che deve metterci al riparo, no? Dalla persuasione equivoca, dalla seduzione, insomma. Un percorso di lotta, logos della verità e della giustizia è alternativo, non deve guardare i sentimenti, la persuasione, i sentimenti, le emozioni, le attrazioni, se no, come dicono adesso filosofi cattolici benintenzionati, se no è emotivismo, se no sono impressioni passeggeri, non sono vere convinzioni, non possono avere autorevolezza, sono eccitazioni, emozioni, ecco. E la nostra filosofia ci ha dato dentro, ha detto se riusciamo a rimanere al riparo, già anche gli antichi, no? La filosofia diceva rimanere al riparo dalle passioni per poter tenere l'asse principale, quello del logos, è la parola che dice la verità. è la parola che ingiunge, comanda la giustizia, stabilisce il dover essere della giustizia, discorso argomentato, e vai, e vai, cammina, 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 siamo arrivati alla modernità, la modernità ha finalmente scoperto le guerre di secolarizzazione, la modernità che ha dovuto attraversare le guerre di religione, le attribuite alla superstizione, no? Alla persuasione falsa dei preti, l'inganno dei preti, tutte queste robe, eccetera, finalmente ha scoperto che ci sono anche guerre di secolarizzazione, che non sono meno tragiche, meno drammatiche, come le due guerre mondiali. E così il nostro illuminismo ha dovuto accusare il colpo, come la civiltà della ragione, la civiltà di Goethe, di Mozart, di Beethoven, che mette la gente nei forni crematori. La civiltà della filosofia, l'impero della ragione, l'illuminazione della coscienza che ci tiene a riparo dalla volgarità delle passioni, delle emozioni, delle subestizioni. Come dice testimone non sospetto Adorno e Orkheimer, che sono gli inventori della critica di questa modernità, diciamo, che ha cercato la ragione al di fuori della persuasione che la verità si impone da sé, la giustizia uguale a quel famoso incipit del loro bellissimo libro sulla critica dell'illuminismo che incomincia così e poi venne l'età dell'illuminazione della ragione ed ora la terra, siamo dopo la seconda guerra mondiale, appena dopo, ed ora la terra si illumina di tragico splendore, terra deserta. La ragione ha fatto più morti di tutte le guerre di religione poverine un po' ruspanti che erano arrivate prima. Come? La ragione non doveva metterci sulla strada della verità e della giustizia. ecco, noi siamo qua, i ragazzi respirano questa percezione, non si osa ancora proprio farla diventare senso comune, ma piano piano lo diventerà, che non basta cercare verità e giustizia tenendosi lontani appunto dagli affetti, dalle emozioni, per andare dalla parte giusta. Vale per la religione, vale per la comunità. e chi occupa in questo momento il posto di questo voto e chiudiamo questa prima parte, lo occupa la pubblicità commerciale. Pubblicità commerciale è più astuta della fenomenologia dello spirito di Hegel. ha un'antropologia raffinatissima e conta tutto sulla persuasione. Quindi anche tu quando dici rendere il cristianesimo più attraente devi ricordarti che il campo è occupato da geni dell'attrazione. Quindi sono geni. menti alte quindi e cosa fai? Ti metti in competizione col dentifricio che ripara i denti miracolosamente cosa ti metti con la Nutella con che cosa ti metti in competizione con Dior e quindi questa cultura adesso mentre dà grande sfogo all'efficacia della persuasione critica cerca di rendere obsoleta l'idea appunto di una convergenza degli esseri umani sulla verità la giustizia figura e anche noi abbiamo incominciato a dire sì certo c'è il pluralismo c'è la democrazia c'è la diversità e cosa vuoi dire? Non è neanche sbagliato siamo contro il pensiero unico questa questa critica sotterranea però ha una forte componente intimidatoria ci minacciano se non risparmiamo il pluralismo e tuttavia ci impongono un discorso politicamente corretto e se sgarri buttano giù le statue e licenziano dalle università quindi essere un po' più accorti e sapere che adesso c'è questo meccanismo non è alla luce del sole la contraddizione della verità e della giustizia la falsa autorità della verità e della giustizia che punta al neutro allo scoperto esalta il pluralismo la scelta la civiltà dei consumi ognuno può scegliere anche nel campo dell'idea quello che vuole ma il coperto difende il pensiero unico e la sua delirante neutralità non siamo né uomo né donna né cattolico né protestante né musulmano né africano sono semplicemente uomo come semplicemente senza niente senza niente cosa resta sono un carciofo spennato non un uomo ecco quindi ricordarsi c'è questa questa linea sotterranea che abbatte tutti i nostri presidi invitando al pluralismo più generoso ma che in realtà ha il suo pensiero unico da imporre anche in modo intimidatorio precisamente in nome della verità e della giustizia come criterio no? il criterio per essere qualcuno è non essere nessuno non essere identificato né come maschio né come femmina né come credente né come capito? indipendentemente indipendentemente da dove sei nato bellissimo sembra quasi cattolico questo discorso ma invece è il suo contrario capito? e dall'altra parte invece sulla scena molto amabile l'idea che la nostra società è il suo bello sarebbe se fosse un grande supermercato di cose dove ciascuno può scegliere e noi abbiamo la proposta cristiana e alla domenica ci lasciano mettere giù un banchetto anche a noi con la nostra proposta cristiana e ce la giochiamo allora per potersi attrezzare in pratica intanto che l'istituzione ci arriva che l'istituzione arranca istituzione di sta roba poverina lo dico con affetto io sono un credente non pentito non dissociato non mi è mai neanche venuto in mente ecco la mia spiritualità del legionario cioè la legione prima di tutto qualunque cosa ma in attesa che l'istituzione ci arrivi non ci arriva ancora nel linguaggio non ci arriva anche nelle pratiche alla percezione appunto di questa partita del gioco che è in campo in questa partita che è molto trappoloso no? che subito ti infilza se ci metti troppa autorità ti dice che appunto è violenza autoritarismo eccetera eccetera se cerchi la strada della persuasione ti mette in competizione col mercato col mercato delle attrazioni quindi e ti invita a venderti Gesù come se fosse una tortina nuova allora qui noi potremmo guardare con più determinazione proprio alle figure della fede che sono scomparse dai nostri manuali io lo dico pur costo perché ho insegnato credo teologia fondamentale per una cinquantina d'anni quindi la teologia fondamentale si occupava di questo no? la fede la credibilità della fede l'autorevolezza della fede la persuasione della fede no? ma nei manuali di teologia fondamentale e io non sono riuscito a piazzarlo benché mi sia svenato un po' ho fallito su questo non c'è neanche un capitolo che riguardi la cananea che riguardi la samaritana che riguardi il zaccheo il centurione guardate quanta roba persino l'eunuco della regina candace che è stato pure battezzato e secondo te dopo è diventato diacono? ha continuato a fare l'eunuco della regina candace secondo me e qualcuno gli ha detto qualcosa? Pietro ha mandato forse qualche vescovo a dire guarda che l'eunuco l'ha è battezzato deve venire a casa ha contratto un impegno non c'è come mai se Gesù dice va la tua fede ti ha salvato non conta niente qui è una metafora quando parla a Pietro è una parola vera e quando parla alla cananea è una metafora si ha detto così per dire ma non è ancora la fede vera no? lo dici te non Gesù allora forse ti viene in mente che noi parliamo della fede la fede che salva diciamo l'importanza della fede e non siamo capaci di portare questi esempi ci vengono subito e sempre e soltanto degli esempi molto ecclesiastici di fede quella degli apostoli quella a cui sono chiamati i discepoli tutti sono chiamati alla salvezza ma non tutti sono chiamati al discepolato bisogna che ti entri questa roba qua c'è nel Vangelo è spiattellata e così tu avresti anche per allegrare la tua comunità dei begli esempi di fede e saresti allegro di trovarli dove non te l'aspetti no? li cercheresti e li troveresti dove non te l'aspetti seguendo il bastoncino da ravdomante del Vangelo di Gesù no? che ti dice guarda anche tra i samaritani da retta a me e sapresti parlarne no? parleresti con amore e con persuasione di questa fede io ieri nella predica ho detto sentite ci capitasse di vedere una cosa del genere non ci capita vedere la donna disperata e piangente insieme a che è consolata che in un attimo capisce di aver sbagliato tutto ma ma se afferra Gesù non si sente più perduta ecco ma magari avessimo da raccontare ora sapete a proposito della fede il 90% dei Vangeli parlano di questa 10% di quella dei discepoli che invece è quella che viene giustamente formata addestrata alla testimonianza di questa alla testimonianza di cosa vuol dire che Gesù è venuto a portare la salvezza e viene addestrata a mostrarne gli esempi a riconoscerli a cercarli a gratificarli anche a dirgli guarda sono tanto contento che che ti è venuta questa questa apertura della fiducia è Gesù che predico io ecco i quattro punti disse se noi riuscissimo si rallegra la comunità la comunità noi abbiamo un catechismo della dottrina della fede ma non ne abbiamo uno della storia della chiesa catechismo cioè che fa la storia della comunità dove ha avuto fede dove ha incontrato le sue difficoltà dove ha superato ostacoli catechismo una cosa che rigmatica capisci noi insegniamo ai bambini del catechismo la bibbia e i sacramenti e anche un po' di dogmatica e poi la storia della chiesa invece la imparano al liceo e imparano che è la storia delle streghe dell'inquisizione come mai non c'è un catechismo gli atti degli apostoli sono un catechismo sulla chiesa no allora uno addestrarsi mentalmente a interiorizzare la formula chiave dell'annuncio evangelico che è questa Gesù è il salvatore punto e non sono io noi predichiamo soltanto la prima parte e abbiamo una teologia soltanto della prima parte invece c'è un bel annuncio evangelico nella seconda e non sono io i nostri manuali di ecclesiologia sono interamente occupati dalla illustrazione della nostra somiglianza quasi identificazione con l'incarnazione di Dio in Gesù e cominciano come mediazione ma poi in pratica diventa una teologia della sostituzione no siamo l'incarnazione che continua wow ma calcedonia ti smentirebbe dice guarda che il Cristo è uno solo e a nome Gesù non ce ne sono altri allora una metà dell'ecclesiologia dovrebbe sviluppare una teologia della differenza no ci sta la teologia dell'unione e ci sta una teologia della differenza se no incompleta diventa delirante questa roba della Chiesa spiegare che cosa significa e quale buona notizia nel fatto che non siamo noi no incoraggia ancora di più ad appoggiarsi a Gesù non siamo noi quindi e quindi non è necessario diventare come noi è la grazia di Dio che fa perché ci sarà sempre bisogno di discepoli e testimoni ma non è necessario essere come noi per essere amati da Dio apprezzati da Dio per essere gratificati dal dono della fede questa sarebbe un'ecclesiologia bellissima che non abbiamo però possiamo incominciare ad allenarci Gesù è il Salvatore non sono io mi viene in mente quell'aneddoto il parroco che di fronte che nel Consiglio pastorale c'è la discussione su come dobbiamo fare non fare la liturgia la catechesi come dobbiamo attrarre i giovani e qualcuno dice ma Gesù avrebbe detto Gesù avrebbe fatto e il parroco a un certo punto un po' agitato batte le mani sul tavolo e li ferma tutti e dice sentite per noi Gesù è importantissimo però ormai Gesù è morto e c'è il vostro parroco eh cioè Gesù 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 ma capisci che a lui glielo perdoniamo perché c'è anche una verità in questa però insomma secondo ragionare traducete tutte le cose cercate di tradurre nel vostro linguaggio anche nella predicazione suggerimento tutte le cose in teologia della creazione e attenti così non diventa semplicemente l'ecologia quelle robe tutte le cose che voi chiamate sopranaturale traducetene in teologia della creazione teologia della creatura che tutte le cose delle sopranaturali ci sono già in Genesi 1-3 compresa la promessa che il seme di lei ti schiaccerà il capo capisci è già lì una volta che c'è la creazione la passione di Dio non si trattiene fino a quando non se l'è riportata a casa quindi quando parli della grazia del sacramento ecco impara in termini di teologia della creazione qualcosa che riguarda la creatura la cosa del sopranaturale è nata quando avendo noi consegnato il naturale alle scienze alla filosofia stolti avendo accettato che la creazione fosse un tema filosofico capito o addirittura scientifico che la natura umana fosse un tema di antropologia razionale avendo accettato queste cose dopo abbiamo dovuto marcare la differenza abbiamo detto sì ma però noi parliamo di cose che invece avvengono al di sopra al di là in alternativa alle cose naturali suscitando anche qualche imbarazzo l'idea che Dio agisca contro natura non è proprio una formula bellissima se vogliamo è perché gli abbiamo consegnata abbiamo consegnata ai laici e c'è rimasto sopra natura il miracolo il miracolo invece di vedere la compassione di uno che guarisce siamo come i farisei che erano lì Lazzaro viene fuori dalla tomba e a questi gli viene in mente una sola cosa ci ha fregato ancora ma come ma non ti commuovi che Lazzaro è restituito alle sue no capisci e a noi lo stesso infatti abbiamo chiamato miracolo nei Vangeli si chiama dynamis e Giovanni semeion segno e noi miracolo miracolo contro le leggi della natura se è successo contro le leggi della natura viene da Dio ma ci sono un sacco di cose che avvengono contro le leggi della natura e sono micidiali ma cosa dici della creazione che parla della creatura tu parli dello Spirito Santo parli della creatura e lo Spirito Santo è quello che le insegna le parole che non sa dice ma io sono cattolico le so le parole scumetum sai quello dello Spirito Santo che fa nascere le cose è lì Romani 8 è lì che si capisci la creatura pensa l'Eucharistia per la creatura non per la santificazione del cattolico devoto certo anche per quello ma per la creatura vuoi parlare della kenosi e parla di abbi il coraggio di parlare di questo nell'Eucharistia tu adori il Signore in forma di cosa ti rendi conto di cosa vuol dire che il Signore accetti di abitare la sua presenza la presenza catexochem quella assoluta diciamo presenza reale noi non perché la presenza di Gesù nel mio fratello o negli avvenimenti della mia vita sia fantastica è reale anche quella ma quella è reale perché lì secondo la fede Gesù è presente nel suo corpo proprio e non semplicemente attraverso il corpo d'altri bello beh il suo corpo proprio lì è rappresentato da una cosa ti rendi conto non è una persona vestita di maestà da un principe da un re da un gran sacerdote capito che sarebbe più omogeneo no e Gesù almeno che sia rappresentata la sua presenza reale da una persona almeno almeno no no una cosa tu prova a pensare però per la creatura cosa significa per la creazione che Dio accetti di essere pane olio vino acqua seme le cose della terra che devono far vivere e nelle quali Dio fa rivivere nella bella poesia del credo che recitiamo alla messa delle vostre diatribe su paradiso inferno giudizio purgatorio tutte le cose che vi siete inventati voi grazie a Dio non c'è niente c'è quella bella frase è la vita del mondo che verrà è la vita del mondo che verrà e l'ha creato apposta Dio come si può pensare che la nostra abitudine avvenga senza mondo e ci guardiamo negli occhi con Dio come i fidanzatini di peine senza mondo che già adesso non gli dovete insegnare questa roba questi si guardano negli occhi e chi è che mette sulla pentola qualcuno deve mangiare cosa fa uno che vuole bene un innamorato di Gesù vorrebbe stare sempre con lui e guardarsi negli occhi speriamo di no Gesù non ha voluto questo e speriamo di no perché se no siamo perduti dov'è è lì a guardarsi con Gesù terzo la creatura quindi prova a tradurre tradurre sempre tutte le cose spirituali che ha imparato ecclesiogene che ha imparato traducile per la creatura terzo l'imperfezione essere testimoni imperfetti per creature imperfette del fatto che alla perfezione non ci arriveremo mai sarebbe una notizia bellissima che libera l'umanità per questo crediamo la perfezione è consegnata da Dio non ci sarà mai equiparazione adeguamento riformiamo la chiesa affinché diventi riformiamola se volete ci abbiamo provato già un paio di volte non è che ci è andata proprio così bene quindi siamo cauti sì certo riforma nel senso migliorare però robe troppo altisonanti no? accidenti abbiamo fatto già l'ultima riforma che abbiamo fatto ci è costata decine di anni di guerra di religione signore benedetto e ci siamo insultati credenti in Gesù Cristo si sono insultati sanguinosamente a vicenda per secoli bisogna girare l'imperfezione anche voi non non affezionatevi così tanto a tutti questi programmi pastorali quinquennali che rischiano di diventare una cosa staliniana la produzione entro cinque anni to 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 va bene facciamo c'è bisogno di ordine di programmazione però e infine ricordarsi ed essere anche molto alleggeriti da questo che la parte preponderante del ministero sacerdotale ma analogicamente di qualunque ministero responsabilità testimonianza che uno si voglia prendere per il Vangelo cerchi le parole per dirla la sua radice la radice che la riscatta diciamo il potere e il servizio e vabbè ma dopo comandiamo cosa devi fare è impossibile senza qualcuno che comanda vivere è un'esperienza capito quindi bisogna essere troppo retorici c'è una cosa che riscatta io lo dico qui in questa università ho fatto dei seminari anche con la filosofia del diritto lo dicevo anche a loro come suggerimento per inquadrare la struttura dell'ingiunzione senza la quale il diritto non ha senso cioè se il diritto non ingiunge e fa solo delle proposte cioè sai sarebbe meglio non sparare al tuo vicino capisco ha bisogno dell'ingiunzione no però appunto l'ingiunzione si riscatta è riscattata dalla intercessione se prima è intercessione apertura all'intercessione mettersi in mezzo rappresentare il popolo anche di fronte a Dio essere capaci di una preghiera che nelle nostre sciagurate preghiere dei fedeli non compare mai che sono veramente sciagurate ne ho letta una ieri domenica no ne ho letta l'han letta loro perché sennò io non la leggerei delle cose trucide cioè preghiere che insegnano a Dio come comportarsi con la riforma della scuola ma siamo impazziti perché sempre più e sempre meglio i genitori collaborano all'istruzione ma cosa stai dicendo ma cosa gli dici a Dio ecco l'intercessione che si espone si mette in mezzo anche di fronte a Dio dice guarda sono teste di rapa però se tu li abbandoni io mi levo al collare non ti seguo neppure io non ti seguirò se li abbandoni si li lascia al loro destino solo perché sono peccatori perché sono infedeli capisci questo secondo me anche il filtro dell'autorità della legittimazione dell'autorità politica sarebbe questo no? bene ma è il primo disposto a sacrificarsi se le cose vanno male capisci? bene ma è quello che è pronto a rimetterci di più bene ma è quello che è pronto a prendere su di sé anche colpe non sue pur di salvare appunto il popolo dalla disperazione no? dall'abbandono appunto ai propri errori ecco allora questo d'autorevolezza se l'intercessione è persuasiva la parola autorevole sarà un sostegno nei confronti della liquidità della nostra condizione e noi credo abbiamo bisogno di questo grazie allora david otto lenghi in arte Gioele Dix che ringrazio di cuore di essere qui per molti di quelli che hanno la mia età lui è stato parte diciamo di una cultura di base per via di Zelig e di Maidi Regol ma naturalmente la sua attività è legata come dire alla sua professione di attore di attore di teatro e di attore di teatro che ha attinto moltissimo alla scrittura alla Bibbia appunto per quelle meditazioni che sono sempre un po' appunto gli spettacoli teatrali e lo abbiamo chiamato un po' anche così ad essere maestro anche per noi sotto questo profilo soprattutto sotto l'aspetto per il quale l'umorismo intanto è un tratto tipico della scrittura nella scrittura c'è molto umorismo e l'umorismo è ciò che appunto ci mette anche al riparo disinnesca un po' la tentazione della della parola umana e specie quando è credente di essere un po' ideologica dispotica violenta e quindi è un bell'antidoto ho pensato di metterlo nelle mani di Don Paolo Aliata che ringrazio tantissimo e che così animerà un po' questa chiacchierata con Giovele Dix a te Don Paolo grazie partiamo da posso far vedere questo libretto c'è un po' di pubblicità la Bibbia ha quasi sempre ragione quasi tra parentesi la Bibbia ha quasi sempre ragione il punto di partenza tuo in questo libro sono i due racconti di creazioni biblici che rileggi nel tuo modo nel tuo stile c'è questo Dio un po' disorganizzato che cerca di cominciare non riesce mai a cominciare ha fatto male i conti con i tempi si sa di avere la scadenza del sesto giorno ma il primo giorno un po' pasticcione un po' pigro non fa granché il secondo comincia a svegliarsi un po' il quarto e poi una svagonata di creature il quinto e il sesto e tra i pasticci che combina c'è la questione della luce la luce del primo giorno che è completamente diversa dalla luce dei grandi lampadari del quarto allora leggo un passo breve del tuo racconto in cui citi una tradizione rabbinica scrivi così la luce del primo giorno era luce di dio allo stato puro troppo forte troppo accecante diciamo pure troppo tossica per gli esseri umani il signore se ne accorse in ritardo ma per fortuna prima di far comparire sulla terra uomini e donne per questo al quarto giorno fece delle luci più piccole e conseguentemente ritirò quell'altra ma ebbe un problema non sapeva dove metterla questo è un problema aggiungo io molto frequente fra i grandi imprenditori lo sbaltimento dei rifiuti tossici dio dunque mise la luce in un contenitore enorme ma non abbastanza il contenitore esplose e la luce si sparpagliò i miliardi di scintille sulla terra compito degli uomini concludono i rabbini è quello di riportare attraverso le buone azioni scintilla dopo scintilla la luce di dio al suo legittimo proprietario bello no? la creazione come il luogo di un sovrabbondante splendore lo splendore disperso che attende di essere riconosciuto allora ti chiedo che cos'è questa luce? che cos'è un'immagine della gioia di stare al mondo un'immagine della gioia di esistere come la leggi? intanto voglio ringraziarvi per questo invito davvero prestigioso per me io vengo da una tradizione nella quale si discute tanto su sulle cose che ha fatto dio sulle cose che facciamo noi uomini e sulla relazione che ci può essere fra le due mi fai una domanda molto difficile per partire devo dire che faccio come premessa io credo che la Bibbia non sia di per sé un libro comico siamo noi che possiamo attraverso il nostro sguardo trovare gli aspetti divertenti gli aspetti ironici soprattutto autoironici perché non dobbiamo dimenticare che l'ironia deve partire prima di tutto da noi stessi significa un po' riequilibrare il peso il nostro peso dentro la vita e l'ironia è lo strumento migliore è quello che normalizza un po' che ti fa sentire molto molto simile agli altri soprattutto nelle tue goffaggini nelle tue insicurezze nelle tue fragilità dunque mi fai questa domanda sulla luce vorrei raccontarvi una storiella breve che aiuta a capire qual è il tipo di cultura nel quale sono vissuto faccio tante premesse in realtà che forse non sono necessarie però c'è un'altra premessa che faccio che poi magari svilupperò più avanti se vorrete che questo approccio che io ho è un approccio che nasce da un profondo rispetto e amore per le cose che leggo cioè non avrei mai scritto un libro la Bibbia ha quasi sempre ragione per fare delle storielle delle barzellette parto dalla consapevolezza che questa è una parola viva una parola che che si modifica cioè lei è sempre lì però siamo noi che nel corso della vita abbiamo sensibilità diverse dunque scopriamo a volte cose che ci erano sotto i nostri occhi che erano passate senza che noi le sottolineassimo e ci suonano improvvisamente nuove ecco che cos'è la luce quella luce quella luce è il desiderio di essere dentro la vita mi verrebbe da dire la cultura dell'aldiquà visto che nella tradizione ebraica sull'aldilà ci sono moltissime opinioni come su tutto il resto del resto però non c'è un'idea certa ci sono alcuni più spiritualisti che sono convinti che esista una vita dopo e ne danno anche dei dettagli non si sa in base a cosa altri che invece considerano che sia soprattutto necessario intanto fare una vita molto molto ben impostata nell'aldiquà e in questo al di qua significa anche avere un rapporto dinamico un rapporto di discussione con Dio cioè la parola di Dio non è una parola inerte non è mi piaceva in premessa ciò che è stato detto cioè quando la parola è così violentemente posso dire affermativa assertiva non c'è è il contrario dell'accoglienza di cui invece noi abbiamo bisogno credo che Dio sia soprattutto questo devo a un prete amico anni fa una cosa molto bella che mi disse in concomitanza nei pressi della morte dei miei genitori mi disse sai è inutile che stai lì a domandarti qual è il significato se Dio può intervenire sul tuo dolore sappi però che durante il dolore lui ti è vicino ecco mi sembra molto bella questa chiave io che attraverso mi sono cresciuto attraverso la saggezza di tanti rabbini e che posso ricevere da un prete amico una parola così così giusta così così illuminante e questo è perché sempre sono cresciuto nella cultura dell'ascolto nella cultura dell'accettare le parole altrui questa cosa curiosamente per gli ebrei è naturale e porta anche a delle contraddizioni folli ci sono questi quattro rabbini che si incontrano sempre e con grande dolore di uno dei quattro gli altri tre sono sempre d'accordo contro di lui per cui lui si trova sempre tre contro uno e le loro discussioni sono ovviamente a volte anche molto animate ne va della loro predicazione ne va della loro vita insomma per cui lui ci tiene per cui dopo tante omiliazioni essere sempre tre contro uno lui un certo giorno fa una preghiera al Signore e dice Signore cosa ti costa fare un piccolo segno adesso facciamo questa nuova discussione saremo sempre tre contro uno tu fai un piccolo segno come a dire che sei d'accordo con me così mi dai perché tu è vero che sei d'accordo con me e naturalmente non ha risposta però quando si trova durante questa discussione al momento buono dice guardate che io posso dirvi che il Signore dalla mia parte mi manderà un segno in quel momento effettivamente c'è una nuvola in questo cielo sereno che esplode con qualche lampo così ecco vedete questo è un segno e gli altri tre dicono queste sono cose che succedono d'estate abbastanza normale che succede che ci siano questo tipo di cose atmosferiche anzi se vuoi ti facciamo vedere su internet ci sono altri altri casi niente per cui lo umiliano allora lui non contento dice Signore abbi pazienza dai un segno un po' più forte allora in quel momento non solo quella nuvola ma moltissime altre nuvole dice ecco vedete questo è un segno che Dio mi dà ragione ma queste sono cose che succedono perché è una specie di effetto domino è stato studiato in America ci sono degli studiosi meteorologi che hanno già studiato e classificato questo tipo di e allora a quel punto lui è talmente umiliato che non sa più che dire ma il Signore Dio di sua iniziativa fa apre uno squarcio nel cielo e si sente la sua voce che dice ha ragione lui ecco vedete vedete dice avete la prova e allora uno dei tre dice va bene benissimo adesso siamo tre contro due questo è un po' l'impatto cioè non siamo così disponibili a dare ragione per forza alle cose che ci vengono imposte che ci vengono chieste vogliamo ragionarci sopra e naturalmente la chiave la chiave ironica è sempre quella che io ho trovato ho trovato come posso dire ho trovato redimente quando hai un redimente tanto non so perché è una parola che va verso la redimere redenzione sì cioè è una parola che scioglie la comicità la morbidezza mi viene in mente magari è un paragone banale ma mi viene in mente i bambini cioè il primo momento nel quale tu ti accorgi che un bambino si sta relazionando a te è la prima volta che ti fa un sorriso io non dimenticherò mai mia figlia mio figlio quando gli stavi gli stavi cambiando il pannolino e ti fanno questo sorriso le prime volte è un sorriso neanche tanto intenzionale probabilmente naturalmente noi lo ricopri ah hai visto ah mi ha riconosciuto magari non è neanche vero però è è bello che forse la prima la prima forma di relazione fra fra due esseri umani tra uno che c'è già e uno che sta arrivando sia questa questa apertura ecco il sorriso lo trovo come una porta aperta come una porta quasi spalancata poi ecco mi fermerei qui perché poi bisogna anche intenderci se vorrete ne parleremo su come si ride su che cosa si ride sulle forme della comicità io non sono così liberista per esempio proprio sull'argomento religioso io ho una certa resistenza ad accettare che si faccia dell'ironia troppo spinta dipende chi la fa dipende come la fa sappiamo che il sentimento religioso è un sentimento molto molto profondo che appartiene alle cose direi primordiali no? per cui bisogna essere molto cauti io mi sono sempre permesso di fare questo tipo di ironia all'interno di una tradizione che che rispetto e che mi appartiene sono sempre molto più guardingo anzi direi che generalmente generalmente rifugo da fare ironia su altre fedi anche se è vero che siamo tutti fratelli però basta vedere la Bibbia il primo caso di fratelli Caino e Abele non è un esempio molto edificante sul piano della forza della fratellanza quindi bisogna essere molto rispettosi comunque se vorrete più avanti durante questa vi racconterò una storiella che mi ha raccontato un prete questa io penso che puoi raccontarla adesso vabbè d'accordo così diciamo me l'ha raccontata un prete romagnolo e quindi va raccontata in romagnolo che sono questi due questi due violinisti che sono cresciuti insieme sono bravi sono due geni diventati di colossi famosi in tutto il mondo però sempre si sono odiati c'è poco da fare non si possono vedere e una volta si incontrano in questo in questo grande contesto internazionale c'è anche una diretta televisiva insomma e lì si incontrano proprio negli ascensori con il loro con il loro staff così si vedono si conoscono da bambini ha studiato insieme uno di bagnocavallo uno di lugo però sempre uno con proprio le invidie le for però altrimenti in quel momento anche perché c'è tanta gente intorno fanno e quindi uno dice oh come stai come stai eh sto bene sto bene spesso ho fatto proprio settimana scorsa ho fatto un concerto in piazza Duomo a Milano una cosa che non hai idea c'era 300.000 persone ma poi suonato in una maniera ti dico solo che a un certo punto nel momento più alto la Madonina presente la Madonina lacrimava lacrimava dall'emozione dice oh sì sì oh bravo bravo ah guarda io il giorno dopo perché l'ho letto che hai fatto quel concerto lì a Milano io il giorno dopo ho suonato a San Pietro proprio davanti alla Basilica a San Pietro c'erano un milione di persone non ti dico niente non ne hanno neanche contate ma erano forse di più e a un certo punto nel momento in cui proprio più alto che c'era la Basilica aperta così proprio il crocifisso il crocifisso è volato fuori proprio verso di me venuto fa e mi guarda sai con quegli occhi che c'è il Cristo proprio così Spir mi guarda e mi fa te sì che sei bravo mica come quell'imbecille là che ieri a Milano ho fatto piangere la mia mamma la trovo meravigliosa mi metto un'altra tradizione rabbinica che guarda con un po' di umorismo all'opera del creatore tradizione rabbinica che dice che questo nostro mondo non è il primo che il creatore ha messo mano alla creazione più di una volta due volte dieci volte cento volte ci prova riprova ma è sempre insoddisfatto perché dici mannaggia guarda cosa mi è venuto fuori e quindi reimpasta tutto sempre da capo e la tradizione questa la leggo dice egli aveva già fatto più mondi ma li aveva distrutti uno dopo l'altro perché di nessuno era stato soddisfatto sinché non ebbe creato il nostro ma neppure quest'ultimo mondo sarebbe durato se Dio avesse mantenuto il suo proposito originario di governarlo secondo un rigoroso principio di giustizia soltanto quando egli vide che la giustizia da sola avrebbe portato il mondo alla distruzione egli le affiancò la clemenza e le fece governare insieme è bella l'immagine di Dio che impara un po' per volta perché in queste cose ci vuole pazienza Dio impara a fare il mondo Dio impara ad essere creatore un po' per volta ci vuole pazienza così come impara un po' per volta a dare all'uomo il sollievo del pericolo mortale della solitudine non va bene che Adam sia da sole quindi si scatenano le creature gliele porta una davanti all'altro perché trovi uno sguardo in cui riposare niente da fare e allora capisce che ci vuole altro e mette mano alla donna pazienza e accettazione della necessità di dover provare molte volte nel processo creativo lasciare andare la tentazione che sempre si ripresenta di pretendere che le cose riescano tutto e subito vale anche per l'artista ci racconti qualcosa di questo vale anche per il comico la pazienza di trovare il modo un po' per volta dunque diciamo sì che naturalmente come sicuramente saprete anche nella vostra esperienza di non so se mi dicevi che ci sono parecchi sacerdoti qui davanti a me alzi la mano per carità comunque diciamo mi viene da dire che c'è una sorta di vicinanza cioè cerchiamo di comunicare con gli altri cerchiamo una relazione ne abbiamo fondamentalmente bisogno per esistere perché senza fedeli voi non avreste senso e noi senza pubblico saremmo inutili magari lo siamo lo stesso però insomma almeno il pubblico ci dà l'illusione di servire a qualcosa ecco ci vuole un talento ci vuole una vocazione voi la chiamate vocazione ma anche noi a volte la chiamiamo vocazione ci vuole un talento bisogna bisogna esserci portati bisogna sentire una spinta che ti viene chissà da dove perché poi non si sa mica a volte per contrasto con l'educazione che hai avuto a volte invece proprio grazie a quell'educazione grazie a qualche granello instillato più o meno volontariamente dai tuoi genitori dal tuo ambiente io credo che la comicità sia innata sia necessario avere esserci portati certo poi però si può molto affinare il mestiere cioè per farlo diventare qualcosa che ci fa campare del quale campiamo e del quale campiamo bene non solo dal punto di vista economico ma campiamo essendo soddisfatti essendo certo magari non sempre ma cercando di migliorarci avendo addirittura la spinta a continuare a farlo anche in età avanzata perché una delle cose che colpisce a me sempre è la bellezza di certi sacerdoti che anzi più invecchiano e più sono interessanti più hanno profondità più hanno pazienza più hanno anche a volte quella capacità di arrivare al punto senza stare a girarci tanto intorno è la stessa cosa che succede agli attori io ho avuto l'onore di lavorare con con Giorgio Albertazzi che aveva 94 anni che era aveva una energia una forza spettacolare ed era molto molto migliore lui stesso lo diceva di quanto non fosse quando aveva 50 anni che pure era sempre un grande attore era arrivato un po' ecco io credo che quello che è bello è quando riesci a sottrarre ad arrivare alle cose facendo sempre meno il che da un lato è una consolazione per chi come me è pigro che basta un filo di gas e sei già sei già a regime ma soprattutto è interessante perché significa che non hai buttato via il tempo cioè il lavoro che hai fatto negli anni è un lavoro che ti ha fatto crescere che ti ha fatto arrivare un pochino più all'essenza per quel che si può quindi all'interno di questo percorso che è un percorso di affinamento un percorso di arrivare all'essenza del proprio ruolo del proprio mestiere bisogna mettere in conto che ci sono dei fallimenti che ci sono delle cose che non funzionano delle cose che non vanno che non entrano devo dire che più vai avanti e meno ti succede io per esempio quando scrivo degli spettacoli o da qualche anno lavoro molto come regista e faccio regie soprattutto ai comici perché li conosco conosco le loro turbe le loro paure le loro debolezze i comici sono malati di far ridere il comico se non sente ridere dopo 20-30 secondi massimo va in ansia e quindi per esempio devi cercare di convincerli ad avere maggiore convinzione anche se fanno una parte che una delle cose bellissime dei comici è quando arrivano ad essere anche non comici arrivare all'essenza della comicità che nasce dall'inciampo che nasce dal dolore la comicità nasce dalla tragedia sono vicini di casa mi verrebbe da dire di rimpettai forse cioè traggono traggono dalla stessa traggono dalla traggono energia dalla stessa cosa che è l'errore insomma anche noi anche voi insomma siete o comunque parlo anche in generale a chi crede sa che la cosa più importante è trovare e trovare il modo di essere di esserci dentro la vita anche pagando pagando il prezzo che può costare la vita e quindi per rispondere alla tua domanda capita capita di essere di essere insoddisfatti di non avere di continuare a cercare di rifare quel mondo cercando però è molto interessante questa cosa della clemenza che dicevi non so da dove l'hai estratta però è interessante cioè che per equilibrare questo senso di giustizia che diventa per forza una sorta di dittatura perché se dobbiamo essere tutti giusti finisce che poi nessuno è giusto oppure chi decide che è giusto e quindi la clemenza significa essere indulgenti essere per esempio un'altra cosa che vi devo dire per voi sarà facilissimo perché lo imparerete fin da giovani io ci ho messo tantissimi anni a capire la differenza fra la pietà e la compassione io non l'avevo capita cioè capivo intellettualmente ma non l'avevo capita cosa significa e con tutto che anche la stessa parola compassione dovrebbe darti un pochino di indicartelo però un conto è arrivarci con la testa un conto è arrivarci col corpo e qui mi viene in mente chiudo su questo sto divagando ma forse vado sempre comunque a chiudere nella stessa direzione mi viene in mente quando ero un giovane attore lavoravo ho lavorato in particolare con Franco Parenti che è un attore che oggi ha intitolato il teatro dove lui ha operato a Milano dal 72 in poi in Porta Romana ora si chiama Teatro Franco Parenti prima si chiamava Salone Pier Lombardo e lui fece una compagnia e mi chiamò a un certo punto mi chiamò mi fece un provino e mi prese io ero un giovane attore promettente però avevo bisogno non avendo fatto scuole avevo probabilmente bisogno di un maestro che non fosse un maestro così che mi convocava per questo lui mi aveva convocato per lavorare con lui quindi però alla fine è stato maieutico perché mi 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 convocava nel suo camerino alle 6 alle 6 del pomeriggio ogni sera anche durante la tournée mi faceva rifare la parte mi correggeva mi ha regalato generosamente molto molto del suo tempo e lo faceva in realtà perché voleva che le scene che io avevo con lui facciamo il tartuffo di Moliere io facevo una parte difficile voleva che il spettacolo funzionasse quindi lo faceva allo scopo di avere un buono spettacolo però in fondo mi ha fatto e lui e lui era era uno che mi tartassava mi una volta mi disse sai io ti ho ascoltato poi aveva questa sorta di disprezzo perché non era mi stimava molto me lo disse sul letto di morte me lo disse commuovendomi fino alle lacrime mi disse io ti ho sempre stimato però forse non te l'ho dimostrato perché lui mi trattava malissimo era il suo modo di dirmi che mi stimava mi trattava male mi diceva tu devi studiare il copione sui respiri tu devi imparare a respirare se non respiri non è inutile che le reciti non mi interessano le intonazioni non mi interessano i significati delle parole le parole sono degli stracci vuoti le parole sono dei rumori tu respira anzi se tu mi dici una parola diversa un sinonimo io sono contento se sento che c'è il significato della parola allora io andavo in apnea tossivo di respirare non capivo niente di quello che mi chiedeva e dicevo delle cose e lui una volta dissi una parola un sinonimo proprio per dimostrargli che avevo capito mi fece un cazziatone terrificante nel camionese non ti permettere di cambiare le parole ma mi avevi detto tu non devi ascoltare quello che ti dico ma devo ascoltare e l'ultima volta mi fece questa cosa mi chiamò nel suo camerino perché lui ascoltava negli teatri non so se sapete c'è l'interfono che è un microfono che sta sul palco che serve agli attori nelle compagnie grandi per sapere quando entrare anche nelle opere liriche infatti spesso gli direttori di scena buttano dentro i coristi che stavano giocando a carte perché non hanno neanche ascoltato l'interfono e comunque lui ascoltava una scena la prima scena in cui lui era fuori perché il tartufo entra al secondo atto e io avevo fatto tutto sulla quale lui mi aveva fatto un mazzo così respira il pensiero le cose e io passai davanti al suo camerino e lui teneva la porta aperta e fumava e mi fece ti ho ascoltato proprio schifato ho capito una cosa tu non reciti tu fai rumore questo momento nel quale io è l'apice della mia della mia ecco questo cosa significa significa che ti affini grazie alle grazie anche alle lezioni dure che ti dà qualcuno e le devi accettare secondo me le devi accettare ovvio che io in quel momento non è che le accettai tanto però capivo che capivo che a qualcosa mi sarebbe servito e oggi se posso essere qua anche di fronte a voi a raccontarvi la mia esperienza significa che probabilmente sono riuscito a trovare quella chiave ma non so se ho risposto abbastanza alla tua domanda ma ecco devi trovare il tuo la tua chiave per stare dentro uno schema lo schema c'è lo schema c'è anche io credo in tutti i mestieri ci sia la necessità di avere degli schemi di avere dei riferimenti poi uno può provare a svariare ma prima di avere quella capacità di svariare deve essere deve possedere quelle capacità deve sapere deve essere forte tecnicamente un po' come i calciatori che se non hanno una base tecnica non sanno stoppare bene la palla è inutile che poi si richiamano possono fare anche il colpo destro però in realtà gli mancano le basi gli mancano i fondamentali come si dice quanto Van Gogh ha penato nel tentativo di imboccare la sua strada questo è un giovane che a 27 anni ha attraversato 10 anni di fallimenti in tutto quello che ha cercato di fare il predicatore il venditore di libri il bibliotecario l'educatore il disastro finché non intuisce qualcosa della sua passione e trova uno che gli dà credito che lo prende sul serio suo fratello e che lo aiuta a prendersi sul serio c'è un passo dei diari di Eti dove dice proprio questo l'importanza di prendersi sul serio d'altra parte il nostro rischio è sempre di nuovo di prendersi troppo sul serio cioè di cercare di dare forma al nostro mondo con molto rigore e senza pazienza senza misericordia senza il rischio di prendersi troppo sul serio Amos Sozzi in una delle sue lezioni in Germania sul tema del fanatismo un certo punto dice questo posso dirvi almeno in linea di principio che credo di avere inventato la cura per il fanatismo il senso dell'umorismo è un'ottima terapia in vita mia non ho ancora visto un fanatico dotato di senso dell'umorismo e non ho nemmeno mai visto una persona dotata di senso dell'umorismo diventare un fanatico a meno di non perdere il senso dell'umorismo l'umorismo implica la capacità di ridere di se stessi è la facoltà di vedersi così come potrebbe vederti il prossimo e rendersi conto che a prescindere da quanto tu sia retto e da che torti tremendi tu abbia subito esiste immancabilmente un risvolto che è un poco buffo e che più sei integerrimo più buffo diventi Chesterton che dice gli angeli possono volare perché non si prendono troppo sul serio gli angeli possono volare perché non si prendono troppo sul serio allora quello che ti chiedo è se davvero ridere rende liberi perché può diventare anche un'espressione un po' retorica no? che d'altra parte noi sappiamo che è così è proprio vero? ridere rende liberi? sì credo di sì credo che ne parlavamo prima è una necessità è una necessità quasi biologica mio nonno che era un personaggio simpatico lui amava molto Milano dove era nato cresciuto parlava anche il milanese e lui mi raccontava sempre delle storielle così molto molto rapide che a lui gli piacevano quelle storielle veloci no? e allora diceva che sono andati a un funerale però stanno un po' sul fondo perché sono andati lì per cortesia insomma perché però non sono coinvolti quindi stanno lì un po' aspetta finisce la messa uno dei due guarda l'orologio e fa ridendo e scherzando e fa mesdi ridendo e scherzando abbiamo fatto mezzogiorno ecco questo è è la risposta cioè io credo che non so se renda completamente liberi però mi aggancio a quello che ho buttato un po' in accenno prima dobbiamo intenderci su che cosa significa ridere in questo determinato su questo determinato argomento perché noi sappiamo che per esempio ci sono ci sono casi anche molto tragici nei quali chi ha fatto ironia sulla fede altrui ha pagato ha pagato pesantemente quindi bisogna partire dal rispetto è fondamentale questo cioè io credo che se tu non hai il rispetto e devi essere un po' cresciuto nella cultura del rispetto devi saper rispettare un po' te stesso e rispettare anche l'ambito nel quale sei in questo senso devo dire che la mia la storia millenaria ormai del mio popolo che poi è complicato anche decidere se siamo un popolo esattamente o no o in come lo siamo o in che modo però certo siamo un popolo con una con una vocazione venuta dall'alto e noi abbiamo dovuto sempre un po' fare i conti con chi avevamo intorno essendo una minoranza ed essendo spesso mal vista e allora noi cerchiamo ispirazione cerchiamo conferma che sia giusto provare rispettare anche chi magari poi un giorno non ci rispetterà o che non ci ha rispettato in passato perché uno dei grandi punti interrogativi che io ponevo a mio padre quando ero un ragazzo e mio padre era scappato dall'Italia a causa delle leggi razziali e per un pelo grazie anche alla bontà di un finanziere di un ufficiale della finanza è riuscito con la sua famiglia a scappare in Svizzera proprio per il rotto della cuffia e quindi non è finito in un forno crematorio quando poi è tornato in Italia non ha avuto dubbi sul fatto di stare in Italia di stare e di restare in Italia e io spesso quando ero giovane magari quando sei più polemico più desideroso di capire ma come avete fatto e lui mi diceva ma sai questa è sempre stata la nostra casa qui abbiamo trovato un sacco di persone che ci hanno riaccolto e che quando c'era la dittatura si erano adeguati ma non si può essere tutti degli eroi certo ci sono stati quelli che si sono proprio adoperati che hanno fatto delazioni che hanno sono stati si sono macchiati di gravi reati di essere capaci di denunciare anche dei cittadini ebrei ma la maggior parte era gente che semplicemente doveva adattarsi e che però magari nel piccolo aveva fatto dei gesti per cui per noi questa è la nostra casa ci sono due episodi nella Bibbia che confermano questa cosa e sono uno è Mosè quando va sul Montesina per prendere le tavole della legge sta su parecchio sta su tantissimo tempo e non mangia e non beve e questo perché lo fa? lo fa perché Dio non mangia e non beve per cui lui non rispetta rispetta le sue abitudini né si mette lì a chiedere scusa hai qualcosa da mangiare mi fai sgranocchiare qualcosa non gli passa per la testa ma la cosa più interessante è che quando il Signore Dio sotto forma di tre messaggeri viene nel famoso episodio dell'apparizione di Mamre appare ad Abramo per dire a lui e a sua moglie Sara che ha 90 anni che avranno un figlio appare come forse ricorderete certo è nella sotto forma di tre di tre viandanti ed è una delle no delle così mi dicevano amici cristiani che questa è una delle forme della Trinità cioè una delle diciamo delle come si può dire le premonizioni della Trinità e comunque questi tre vengono accolti da Abramo il quale tra l'altro è molto agitato chiama la moglie dice prepara da mangiare e prepara loro un banchetto e loro benché siano dei messaggeri siano degli angeli o siano forse in un certo senso Dio in persona diviso in tre mangiano mangiano anche se non mangerebbero cioè si adeguano alla si adeguano alla all'usanza del luogo per cui mangiano anche se non avrebbero bisogno di mangiare qui c'è una cosa divertente che ho approfondito con un mio amico rabbino perché studiando gli ho detto scusa loro mangiano e va bene però attenzione lui gli prepara il vitello e la giuncata il vitello è carne la giuncata è latte voi sapete che carne al latte non si mangiano insieme e allora il rabbino mi dice no no perché fingono di mangiare ecco queste sono le furbate sono le furbate dei rabbini che no no loro fingono di mangiare per non offendere Abramo allora dico beh allora però Mosè dovrebbe fingere di digiunare ma mangiare di nascosto essersi portato e lui dice beh questo nessuno lo può escludere che lui si sia portato qualcosa da mangiare ecco vedete che c'è sempre la chiave per entrare e questo in fondo è la base dell'irronia cioè trovare sempre un pertugio nel quale insinuarti per provare a trovare una chiave per la nostra sopravvivenza per tra l'altro su questa faccenda della carne e del latte ci siamo l'ho un po' tartassato perché non mi aveva convinto con sta storia che fingono di mangiare gli ho detto oltretutto se fingono di mangiare è bene ma se mangiano mangiano appunto allora lui mi ha detto ma guarda che però se mangiano prima il latte e poi la carne si può fare perché il latte resta poco e la carne quindi gli ho detto quindi se uno fa la colazione continentale quella colazione all'americana in un albergo mangia prima il caffè e latte poi aspetta un po' traccheggia e poi mangia un po' di bacon no il bacon non si può perché è maiale mi fa lui ecco va bene allora mi ha sempre mi ha sempre trovato la risposta Cir Conti quanto tempo abbiamo tu stai hai girato tanto con questo spettacolo su Dino Buzzati che ho capito essere un tuo autoreno molto amato la corsa dietro il vento è il titolo in cui attraversi vari racconti di Buzzati e una cosa straordinaria di Buzzati è che continuamente nel suo linguaggio nel suo modo lui che appunto non aveva bisogno di professare di rinchiudersi dentro l'etichetta di credente non credente insomma alla fine della vita dice ma non so io ricordo con molta gratitudine il catechismo dopo di che l'ho lasciato andare adesso non so forse sono agnostico non so però non gli interessa l'etichetta ma continuamente nei suoi racconti nei suoi romanzi ritorna l'immagine di del mistero che bussa no? che si rende presente che invida ombra del sud ombra del sud il racconto dove c'è questo arabo un po' sghemmo un po' sciancato che compare ogni tanto e lui lì un narrante che dice lo vede lì e poi si fa inseguire si fa inseguire è come un chiamare no? ma tante volte nel deserto dei tartari eccetera la domanda che ti faccio è perché ami così tanto buzzati e se questa immagine del messaggero che viene a sollecitare la risposta al colombra eccetera interpreta qualcosa della tua vita se ci racconti sono spudorato se ci racconti un episodio in cui la vita ha bussato la tua porta beh non c'è contesto migliore per raccontare questa cosa che è molto personale e che al tempo stesso però ho già avuto modo di di condividere in un contesto molto bello che vi dirò io sono cresciuto dagli 11 anni quando ci siamo cominciati a conoscere fino ai 30 a fianco di un ragazzo che si chiamava Renzo Marotta che era un ragazzo come me che amava la chitarra che amava i libri che amava la musica grazie a lui ho conosciuto Buzzati perché lui faceva il liceo il ginnasio quando io facevo la terza media quindi lui mi portò questo libro i 60 racconti e cominciamo a leggerlo insieme abbiamo fatto le vacanze al mare insieme ci siamo innamorati quasi sempre della stessa ragazza ed eravamo tutti e due molto timidi quindi nessuno dei due riusciva mai a quagliare ci siamo poi siamo poi cresciuti abbiamo avuto un matrimonio praticamente nello stesso periodo abbiamo avuto i nostri primi figli insieme e purtroppo lui un giorno il 3 febbraio pochi giorni fa del 1986 è andato contro un guardrail della Milano Bergamo ed è morto la mia vita si divide sostanzialmente nella vita con Renzo e la vita senza Renzo e proprio in questi giorni che eravamo vicini al 3 mi sono reso conto che ormai è più lunga la vita che ho vissuto senza di lui che la vita con lui questa frattura è una frattura dolorosa perché era un fratello scelto non un fratello che ti viene dato così col quale come sappiamo non è sempre detto che ci sia la condivisione e l'amore era un fratello scelto ed era un fratello profondamente cattolico io lui era nella GS poi diventata Comunione e Liberazione e grazie a lui io ho superato tutti tutti i pregiudizi che c'erano su Comunione e Liberazione soprattutto nella parte a sinistra che io diciamo per la quale simpatizzavo senza essere mai stato uno schieratissimo però un cane sciolto però avevo idee progressiste le ho tuttora per quel poco che vale però ecco lui mi ha mi ha fornito una chiave per per conoscere anche perché lui era veramente uno che aveva una fede forte io ricordo le nostre discussioni gli dicevo io apprezzo e ammiro in te il fatto che tu sai pregare per esempio che voi pregate che è una cosa che fate perché tanti dicono ah sì io prego la mia maniera ma la tua maniera di che? cioè secondo me si prega in un certo modo e questa è una cosa tra l'altro che fanno anche gli ebrei che fanno in generale quelli che credono cioè la preghiera è una cosa che si fa lui a volte mi diceva polemicamente ma sai io a volte prego perché lui era ovviamente autocritico diciamo ma sai io a volte prego così meccanicamente mentre tu preghi molto di più con queste cose che dici con le cose insomma comunque abbiamo avuto questa relazione molto forte anche su questo argomento ci siamo scambiati tanto e naturalmente questo buco è stato un buco che mi ha lasciato mi ha lasciato solo mi ha lasciato solo non avevo neanche titolo pensate che io per un periodo siccome ero veramente a giù a volte dicevo ho perso mio fratello tanto che qualcuno succedeva diceva ma come ma tu non hai figlio unico davanti a mia madre diceva ma avevo perso un fratello cioè creavo questa cosa perché non sentivo di avere un titolo perché dice è morto un amico va bene ma per me era morto un pezzo di me ho raccontato questa cosa un giorno a Otello Cenci che è colui che da molti anni si occupa l'ho incontrato per caso per un altro motivo a teatro e si occupa degli eventi di spettacolo del meeting di Rimini e allora lui mi ha detto ma sai che sarebbe bello se tu facessi uno spettacolo dedicato a questo e allora io ho scritto uno spettacolo che ho fatto al meeting di Rimini nel 2016 che si intitolava diversi come due gocce d'acqua che è un verso di Wislawa Simborska che dice saremo diversi come due gocce d'acqua per raccontare come si può essere simbiotici si dice no però comunque ognuno con la sua come diceva Gaber tutti sullo stesso treno ognuno con il suo biglietto ecco questo è stato il momento nel quale io di fronte a una platea enorme di persone che non conoscevano Renzo salvo sapere che era un loro fratello e conoscevano magari me ho potuto raccontare quel dolore sternarlo e l'ho fatto in un momento nel quale ero riuscito a fare già una cosa che è quella che io mi porto dentro cioè per tanto tempo compreso il giorno del funerale io ero infuriato ero infuriato ed ero infuriato non con il pretico ero infuriato in genere ero infuriato proprio anche con Dio perché dicevo allora sentivo dire ah il Signore chiama a sé prima i migliori tutte balle tutte balle cioè non avevo consolazione non trovavo consolazione in questa cosa e per tanto tempo questo è successo anche per la morte dei miei genitori che è avvenuta ve l'ho accennato prima è avvenuta tragicamente a venti giorni l'uno dall'altro quindi mi sono trovato da solo improvvisamente e anche con loro ho dovuto fare questo percorso ma avevo imparato da Renzo io l'ho cercato per troppo tempo fuori ma era normale che fosse così perché aveva lasciato un vuoto e io non potevo che cercarlo fuori a un certo punto lui non so quando è successo di notte sicuramente è stato un processo lento lento inarrestabile ma poi quando è avvenuto non c'è stato più un ritorno indietro lui da fuori è entrato dentro nel momento in cui è entrato dentro nel momento in cui i miei genitori sono entrati dentro ho smesso di cercarli fuori di me e a sentire la loro mancanza io non li ho più persi però ora sono sempre dentro di me ecco questo è il momento nel quale io forse ho capito di più questo è il motivo per il quale mentre tu dici proprio nel momento in cui sei messo alla prova dici ma ma Dio dov'è non esiste come mai perché permette tutto questo invece è proprio dopo che capisci che è questa la forza la forza che ti entra dentro questo è anche non ha a che fare con l'ironia ma ha a che fare con possiamo dire permettersi una chiave di lettura diversa dell'esperienza della morte cioè non è scontato non è dovuto che l'esperienza di perdere una persona che amo sia entrare in una condizione di distanza incolmabile perché la morte è uno strappo che determina una separazione ma è anche l'occasione per un accartocciamento delle distanze io posso accogliere nel fondo di me riconoscere nel fondo di me la persona che amo perché l'amore fa questo l'amore l'amore trova il modo di rendersi presente la persona amata noi siamo discepoli di un maestro che venti secoli fa ha detto guardate io vado incontro alla mia morte ma non leggete la mia morte innanzitutto solo come l'ingiustizia è certamente questo perché io muoio violentamente senza ragione ma io prendo questo e lo faccio diventare un regalo e in forza di questo amore che mi permette di prendere il torto e di renderlo un regalo io vi prometto che tutte le volte che farete questo io sarò presente cioè rendersi darsi la possibilità di leggere le cose in modo diverso da quello che ci viene immediato tu accogliendo dentro di te la presenza delle persone che ami ti permetti di vivere quell'esperienza in modo non scontato questa è una delle sorprese della vita in fidei conti no? è un modo in cui la vita viene a bussare anche questo credo che siamo ai limiti del minutaggio lascio a Giuliano o Ivano di condurre vi ringraziamo perché davvero ci avete coinvolti in questo dialogo io se ci sono due minuti vorrei concludere ancora con una storiella perché ci aiuta a ridere ed è una storiella che dedico sempre lo faccio in uno spettacolo uno spettacolo col quale sto girando che si chiama Ai nostri tempi nel quale ragiono in maniera comica sul tempo che passa e la dedico a mio padre che era un uomo molto freddoloso diventato freddoloso soprattutto con l'età tanto che io lo prendevo sempre in giro ma adesso anche io devo dire metto volentieri perché poi la cosa curiosa è che magari eri tanto diverso da tuo padre lo prendevi pure in giro prendevi le distanze e poi scopri di essere la sua fotocopia è una cosa mia moglie mi dice ma cos'è che ti devo scaldare sempre tutto sembri tuo padre mio padre era uno polemico con il con il forno a microonde perché diceva il forno a microonde sembra che scalda ma non scalda perché lui era uno che mangiava lentamente quindi gli arrivava il minestrone bollente come arriva poi dopo tre minuti è freddo quindi lui era contro anche il microonde c'è questo signore che va in paradiso arriva in paradiso dopo pochi giorni chiede di essere ricevuto San Pietro dice che problema c'è io sono molto grato beh dice sei grato ti sei meritato di essere qui e dice sì però io ho un po' freddo come freddo sì ho un po' freddo ma questa è una cosa mai sentita inaudita cioè siamo in paradiso è tutto è tutto climatizzato al meglio e io purtroppo ho un po' freddo dice ma che cosa vogliamo fare e dice se ci fosse un posto dove c'è un po' più caldo io andrei volentieri lì e non è che posso mandarti al purgatorio figliolo mio fa più caldo lì e dice sì certo che fa più caldo però nessuno accetterebbe di andare ah io guardi se per avere un po' più caldo volentieri per cui così proprio contro ogni regola lo trasferiscono al purgatorio ma anche dal purgatorio due o tre giorni di adattamento si fa ricevere dice io purtroppo ho un po' freddo anche qui allora grandi si consultano cercano di convincerlo dicono guarda che non vera mica all'inferno fa più caldo lì e beh l'inferno fa caldo e come però lei deve tenere conto che qui dal purgatorio la possibilità di tornare su c'è ma da giù non si torna è una scelta irreversibile è convinto dice guardi se c'è più caldo volentieri e allora lo trasferiscono all'inferno dopo di che non se ne sa più niente tempo dopo a un convegno alla cattolica San Pietro incontra Belzebù durante il coffee break fanno due chiacchiere così c'è stato appena il discorso di Paolo Aliata che è stato molto apprezzato e fanno due chiacchiere e a un certo punto San Pietro dice scusa una cosa una cosa è venuta in mente così non so perché associazione meditale non so se ti ricordi un tempo fa c'era uno che è venuto che noi l'abbiamo trasferito poi ho saputo che dal purgatorio addirittura è l'inferno uno che aveva quello che aveva sempre freddo non ce ne parlare è venuto giù ma l'ho messo al caldo si lamentava che aveva freddo che aveva freddo e quindi e niente quindi l'ho fatto trasferire giù nelle caldaie dell'inferno più caldo di così e come è andata ah non lo so non ho più idea non ho più seguito sai che sarei curioso allora anche Belzebù dice ma quasi quasi anch'io allora dice vabbè dai tanto qui il convegno è finito non c'è niente più interessante Aliata ha parlato quindi possiamo e vanno quindi scendono giù 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 vanno giù un caldo che non vi dico scendono scendono arrivano giù proprio alle alle caldaie questo rumore di caldaie pazzesco questo enorme portone di ferro che allora sono questi inservienti che spostano rumorosamente questo portone e da dentro si sente una voce la porta grazie davvero allora visto che appunto è stato avviato questo bel dialogo tra Paolo e Gioele vediamo di entrare anche noi un po' in questo dialogo anzi invito Pierangelo Sequeri a venire qui così almeno per le domande così almeno se in questo momento questa mattinata di ascolto sono nate delle domande e che vogliamo rivolgere a chi finora è intervenuto mi sembra l'occasione buona fino alle ore 13 qui c'è la possibilità anche di un microfono volante e quindi chi intende fare una domanda magari conviene anche prendere il microfono comunque lo consegneremo grazie tento io di aprire un varco in fondo abbiamo tutti abbiamo cercato di entrare in questo ho parlato all'inizio dell'immaginazione in questo scarto con il quale dobbiamo sempre fare i conti tra i sogni e la realtà le cose che ci immaginiamo e le cose che sperimentiamo che non vanno mai d'accordo e senza l'ironia possono diventare una persecuzione cioè quando uno si confronta ossessivamente con l'ideale e niente allora niente vale più niente questo è un rischio forte un rischio forte per la persona religiosa un rischio forte per questa generazione mi viene in mente la frase di un libro che Gioele ha scritto 2500 anni fa credo che adesso avrei qualcosa di più recente ma un libro di profezie Gioele detto tra i profeti minori ma poi non è vero che sono così minori che gli altri sono anche un po' pizzosi quelli grossi mentre quelli piccolini sono belli pensate Amos e Gioele ha una bellissima battuta in cui dice verrà il giorno in cui gli anziani avranno sogni e i giovani visioni mi ha sempre colpito profondamente questa questa idea gli anziani ormai visioni hanno visto tutto come si dice uno che è anziano però possono avere sogni per i ragazzi far sentire che c'è qualcosa di entusiasmante che sarebbe bello che loro inseguissero se sono così generosi invece di dire sempre ai miei tempi ai miei tempi i ragazzi cominciano a avere visione e a vederle le cose perché l'autorevolezza è questo l'esperienza dice ho ancora riserva di sogni per te ecco sarebbe bello che allora uno si prende coraggio altrimenti c'è la nemesi della pubblicità commerciale che se ne impadronisce e la nemesi io la rappresento così di solito nelle mie prediche nelle mie conferenze siamo a tavola papà la mamma il figlio nostro figlio guarda come voi mentre mangia la televisione la televisione mostra c'è uno spot bellissimo costruito molto elegantemente e mostra una donna una mamma con una permanente si dice ancora permanente non so con una conciatura perfetta non si muove un capello vestita alla moda che stira e ammira lava fa le cose ma lo fa come se fosse una principessa una cosa regale sognante bellissima truccata come si deve e poi stacco altri fotogrammi c'è il papà papà prende il jet privato ha un vestito gessato perfettamente in ordine un orologio di alta gamma e scopre una chiocciolina di pasta che la che la sua bambina gli ha messo come ricordo mentre va a fare transazioni su Hong Kong su su Taiwan eccetera e il vostro bambino li guarda tutti e due guarda voi e poi eleva a Dio una muta preghiera Dio per me perché a me questi due capisci perché se lo scarto è demoralizzante è la fine del mondo se il mondo quella rappresentazione ecco io credo che appunto l'ironia la capacità di suscitare di raccontare narrazioni che un po' demitizzano questo scarto è come se fosse una roba che chissà quale obiettivo dobbiamo raggiungere ho parlato di un'imperfezione che ci accompagna e nello stesso tempo non rinunciano a questo rapporto tra qualche bel sogno e qualche visione concreta di qualche cosa che può essere cercato perseguito magari anche con fatica e con sacrificio ma dare soddisfazione è una chiave anche per il nostro ministero credo aggiungo se posso sempre ispirandomi a quel episodio come tanti nella Bibbia fertilissimo che è l'apparizione di Mamre che quando il Signore Dio dice a Sara che avrà un figlio tenendo conto che lei è sterile ma ha anche 90 anni quindi Sara ride ride perché dice come è possibile e il Signore Dio se la prende non ama questa risata tanto che Sara probabilmente consapevole solo una donna poteva essere così sfacciata da ridere in faccia a Dio però si rende conto che forse ha superato e quindi si ritrae come dire butta la risata dentro e dice Sara tu hai riso e lei dice no no non ho riso no no sì tu hai riso proprio è incredibile come nella Bibbia dice no no non ho riso sì tu hai riso e dice secondo te io prometto qualcosa che non posso mantenere per cui in quel momento la risata è l'incidente l'incidente grave è avere messo in dubbio la possibilità di Dio di fare qualcosa di darti un dono di darti una nuova possibilità una nuova apertura e qui si impara attraverso il comportamento di Dio che è uno un po' umorale ma poi alla fine è clemente la famosa clemenza e quello che quando c'è Sodoma ha deciso già di mandare gli angeli a di sui gestori ma fa una lunga trattativa con Abramo gli dice se trovo assi 50 50 persone per bene a Sodoma la risparmierei allora Abramo contratta arrivano a 40 poi a 30 poi a 20 per cui come dare anche l'idea che si può trattare che si può provare a trovare comunque in ogni caso quando alla fine dopo nove mesi nasce il figlio lo chiamano Ishak che sarebbe figlio di una risata quindi la risata genera e questo naturalmente per un comico è molto molto benaugurante è uno dei fondamentali Don Claudio la proposta cristiana sul termine proposta non mi viene un altro è fatta da dottrina c'è un diritto canonico ci sono delle leggi c'è una serietà il tema della salvezza e dall'altra parte a volte uno dice c'è il rischio di una banalizzazione di un eccesso di di forma ironica no anche nella forma di predicazione piuttosto che abbiamo qualche compagno che a volte esagera in questa forma qual è l'equilibrio giusto perché non diventi non venga accolto come una cosa adesso dico pallosa per dire una cosa che diventa è percepita come qualcosa comunque di lontano di pesante di fuori dalla realtà fuori dal mondo va per criteri diversi ma nello stesso tempo che non cada nella banalizzazione no dove tutto si diventa comico alla fine no anche qualcosa di serio come la la fede cristiana come la proposta cristiana come la parola di dio come la dottrina cristiana come la la salvezza ecco qual è l'equilibrio corretto perché non diventi sparò di pastorale obesa una volta cioè una roba obesa che dà l'idea della pesantezza dell'inutilità e nello stesso tempo perché non cada nel rischio della stupidità no ecco grazie altre domande poi le raccogliamo così almeno poi possiamo rispondere Davide una cosa semplice che mi è nata da getto avete parlato entrambi questa mattina di imperfezioni l'ironia permette di abitare in maniera sana le imperfezioni però le imperfezioni evocano anche qualcosa che è uno scarto l'imperfezioni a volte fanno soffrire generano un dolore grande si può ironizzare si può affrontare il dolore con ironia come si fa a farlo e in che maniera puoi poterlo vivere prima quando parlavate lei di Renzo e poi Paolo ha risposto ad un certo punto poi il codice si è fatto molto serio no si poteva ridere anche di cose di questo genere in che modo un'altra domanda ti chiami Siamo Siriac Siriac Semplifico davvero la mia domanda perché dico così perché ci è più facile quasi credere in un Dio lontano trascendente proprio appunto per parlarne dobbiamo trovare altri modi un corpo che non è corpo una appunto si è parlato del miracolo di tante cose e perché ci è più facile credere in questa figura piuttosto che in una figura che invece ci tocca da vicino che raccoglie che raccoglie imperfezione di cui si parla che raccoglie l'umano nelle sue contradditorietà che ci sono perché sembra che c'è una tendenza proprio inata naturale che ci porta a questo fatto bene proviamo a rispondere a queste tre domande allora guarda io se me lo permetti lascerei quest'ultima a te Gioele questa idea del Dio vicino e lontano non so al quale paradossalmente nonostante che tutti desideriamo che Dio entri nella nostra vita quando ce lo comunico come vicino quotidiano l'incarnazione la presenza le cose che fa Gesù che non sono non devono fare una riforma della religione racconta le parabole del seme quasi quasi restiamo un po' delusi ci piaceva di più quando era come il faraone quando come l'imperatore quando era come il papa una volta adesso anche il papa poverino fa quello che può invece per quanto riguarda quindi questo paradosso che sollevava Siriac invece per quanto riguarda le altre due dunque la proposta è l'urgenza come equilibrare dunque guardate nel linguaggio del cristianesimo come proposta c'è come dire un buon inconscio e una cattiva coscienza della chiesa attuale è anche una buona notizia qual è la cattiva coscienza la cattiva coscienza è la sensazione che l'idea di avere promosso a tutto campo come questione di vita o di morte se no vai all'inferno capisci la forma cattolica la forma appunto dell'appartenenza istituzionale la forma della vita sacramentale eccetera come risoluzione pura e semplice della fede deve fare un passo indietro non corrisponde alla rivelazione in realtà guardando bene appunto ne ho accennato prima e non corrisponde neanche al dogma anche se noi abbiamo privilegiato una parte non so se voi avete memoria avendo studi teologici l'avete incontrato dunque nell'ottocento ancora fu condannato scusa no nell'ottocento nella prima metà del novecento fu condannato un padre gesuita condannato come eretico dal santo ufficio allora si chiamava così che sosteneva chi muore musulmano ebreo protestante ateo va all'inferno semplicemente per il solo fatto di essere tale cioè indipendentemente da quello che lui il santo ufficio dice questa è un'eresia però se voi aveste chiesto alla gente che usciva dalla messa allora tutti avrebbero detto che questa è la dottrina cattolica extra ecclesiam nulla salos nessuno si sarebbe ricordato che è altrettanto antico altrettanto patristico è l'altro adagio che dice Deus non alligavit gratiam sacramentis cioè Dio non ha vincolato la grazia ai sacramenti cattolici che è un altro grande dogma su quale un cristiano non può discutere e hanno privilegiato la prima allora la cattiva coscienza non era giusto essere così massimalisti quindi adesso diciamo ecco se vale la prima sei obbligato non c'è libertà se no vai all'inferno se invece la fede è una questione di relazione come deve essere allora sì allora posso dire c'è la proposta cristiana ma il buon inconscio è questo perché è una la proposta cristiana perché il cristianesimo è una proposta mentre la pace con Dio è una questione di vita o di morte e come ci arriva uno lo sa Dio io so poco però sarebbe divertente specializzarsi nell'imparare non nell'insegnare ma nell'imparare in quanti modi Dio trova il pertugio nella vita delle persone saranno sempre pochi ma è molto divertente anche no scoprire tu guarda Dio riesce a farsi beffe questi qui la vogliono lapidare e Gesù riesce la samaritana dice io sono quello che sono e Gesù dice io ti faccio nascere una fontana dentro apprendimento dice guarda che trucchi no ecco il cattivo inconscio e questo scusa il buon inconscio della Chiesa ma non c'è ancora arrivata con le parole il buon inconscio della Chiesa è questa percezione che effettivamente la forma cattolica è la forma di un ministero della salvezza non semplicemente la forma della salvezza la forma di un servizio di una dedizione di una generosità in questo è necessario se non ci fosse nessuno che dicesse questa cosa anomala che è successa nel Vangelo che cosa c'è di anomalo abbiamo scoperto una religione che non è interessata a se stessa capisci non è interessata a se stessa è interessata alla salvezza del mondo è grata di quando questo succede è molto rispettosa del fatto che la maggior parte dei modi in cui succede ci sono ignoti e noi testimoniamo questo allora questa è una proposta come Gesù fa certo bisogna essere portati come dice lui a questo e grazie a Dio ce ne sono tanti che si sentono portati per questa testimonianza ma non perché sul loro capo pende la condanna dell'inferno che poi magari hanno freddo ma perché appunto questo è servi inutili servi inutili e questo però nella vita che ci sia un cespuglio piccolo grande non importa di persone che si dedicano generosamente a questa testimonianza non perché si salvano più degli altri ma perché questa testimonianza è preziosa persone imperfette come me uomini e donne imperfette come me mi dicono che per la vita c'è speranza perché la sua destinazione è nelle mani di Dio non mi dicono semplicemente non cercano semplicemente di reclutarmi capisci cosa voglio dire non cercano semplicemente di riprodursi ma di dare questa testimonianza ecco per questa non abbiamo abbastanza parole questo rende qualche volta un po' fragile il nostro equilibrio ma però ormai manca poco entro una decina d'anni la Chiesa troverà le parole perché ormai è convinta di questo anche se non sa come dirlo nel modo giusto ma è convinta di questo che la partita vera è appunto la riconciliazione dell'essere umano con Dio come principio di riscatto di questa vita che lasciamo piena di debiti no di cose che avremmo dovuto fare non abbiamo fatto eccetera ci deve essere qualche riscatto di questa vita che abbiamo patita abbiamo anche goduta spesso apprezzo della sofferenza di altri ci deve essere questa ma la maggior parte delle strade e lo Spirito Santo non sappiamo come le fa però per noi mentre custodiamo la nostra testimonianza e proponiamo la forma della nostra testimonianza a qualcuno che sai mai che voglia diventare discepolo non per interesse ma semplicemente perché è bello rendere questa testimonianza di una religione appunto che libera anche dall'ossessione religiosa così dovrebbe essere secondo me la fede evangelica questa è una cosa anche abbastanza emozionante perché nella storia religiosa dell'umanità diciamo è sconosciuta nella storia religiosa dell'umanità le religioni cercano di custodire loro stesse come questione di vita o di morte non la vita di tutti come questione di vita o di morte per Dio l'imperfezione ecco qui c'è una parola dico una parola breve è come il tema della differenza quando è esploso il tema della differenza il tema della differenza ci ha convinti ad adottare questo linguaggio un po' ibrido voi sapete che io ho una ho inventato un conservatorio per i bambini di musica per i bambini autistici per i bambini con delle difficoltà importanti con la parola con la psiche eccetera quindi parlo dal di dentro e abbiamo inventato questo linguaggio delle differenze che sono delle ricchezze e adesso la risposta la risposta del port moderno la risposta di questi ultimi anni che vi ho detto la contemporaneità che la chiesa vede ancora poco è che appunto adesso si cerca nel neutro si è capita la trappola delle differenze si cerca nel neutro l'essere indifferenziato è il luogo del sogno che non è uomo donna non è non è questo non è quello non è quell'altro ecco l'imperfezione bisogna stare attenti a giocarsela io parlo dell'imperfezione che non è un danno l'elogio della perfezione non deve essere l'elogio del danno una volta lo facevamo anche noi diciamo che grazie che ti ha dato Dio che è nato un bambino sarebbe stato meglio lasciar perdere adesso però c'è anche una versione laica di questa roba secolare figurati lui ha le stesse potenzialità di tutti gli altri anzi le sue deve soltanto svilupparle cosa c'è di imperfetto non dire così faccio fatica a camminare non voglio aiutarmi a camminare invece di dire tutto sommato eh c'è una qualità preziosa anche nel non saper camminare vuol dire che ci sono altre qualità non fare sta roba invece io insisterei sull'imperfezione buona quella che non deve ferire nessuno che è noi possiamo chiamare coscienza del limite capacità di non prendersi troppo sul serio ecco questa è l'imperfezione buona che dobbiamo coltivare perché diventa persuasiva se io che non sono Gesù non sono Dio non sono i tre di mambre non sono niente è vero ti dico che ho trovato da aggrapparmi in questo Vangelo ecco divento credibile se invece io penso che aggrappandomi in questo Vangelo divento un super uomo una super donna e tu devi aspettare soltanto di colmare la distanza che ti separa da me è quella verità appunto che 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 ti che ti sbatte contro un muro capisci e che è difficile in qualche modo poter accogliere con gratitudine ecco e e con l'idea che rispetta a sua volta anche la tua imperfezione non quella del danno che dobbiamo invece aiutarci a curare il più possibile capisci ma quella appunto della condizione umana ecco gioele dici perché un dio vicino può diventare più come dire può essere preso più sotto gamba di un dio sovrano di un dio imperatore di un dio faraone che alla gente piace forse il faraone sì è una domanda così difficile dopo quello belle cose che hai detto non non so probabilmente abbiamo paura abbiamo paura che sia vicino perché che possa davvero influire sulla nostra vita e cioè che che alla fine siamo noi perché poi voglio dire siamo noi a doverlo a dovergli citofonare non è che la chiamata almeno per quello che ho capito io non è che lui ti ti illumina sì ti illumina all'alto è una bella immagine però la verità è che sei tu che devi farti vivo ecco insomma poi eventualmente ti chiamo no non eventualmente se decidi che la relazione c'è devi avere una relazione con lui e avere questa relazione è faticoso come tutte le relazioni quindi averlo lontano là così quasi inavvicinabile ne raggiungeva un bel alibi mi sembra che sia questa la cosa mentre bisogna accettare che io purtroppo la butto sempre in battuta ma sempre le storielle di mio nonno molto brevi c'è quello che sta cercando parcheggio cosa veramente grave è talmente disperato deve arrivare e allora prega ad alta voce signore di Dio ti prego fammi un parcheggio fai un parcheggio prometto che non prenderò più non farò più anche quella 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 relazione che prometto farò delle offrirò anche quella cosa che ho fatto in quel momento esce uno scusa scusa l'ho trovato l'ho trovato ecco proposta cristiana sul termine proposta non mi viene un altro è fatta da dottrina c'è un diritto canonico ci sono delle leggi c'è una serietà il tema della salvezza e dall'altra parte a volte uno dice c'è il rischio di una banalizzazione di un eccesso di di forma ironica no anche nella forma di predicazione piuttosto che abbiamo qualche compagno che a volte esagera in questa forma qual è l'equilibrio giusto perché non diventi non venga accolto come una cosa adesso dico pallosa per dire una cosa che diventa è percepita come qualcosa comunque di lontano di pesante di fuori dalla realtà fuori dal mondo va per criteri diversi ma nello stesso tempo che non cada nella banalizzazione dove tutto si diventa comico alla fine anche qualcosa di serio come la fede cristiana come la proposta cristiana come la parola di Dio come la dottrina cristiana come la la salvezza ecco qual è l'equilibrio corretto perché non diventi sparò di pastorale obesa una volta una roba obesa che dà l'idea della pesantezza dell'inutilità e nello stesso tempo perché non cada nel rischio della stupidità no ecco grazie altre domande le raccogliamo così almeno poi possiamo rispondere Davide una cosa semplice che mi è nata a getto avete parlato entrambi questa mattina di imperfezioni l'ironia permette di abitare in maniera sana le imperfezioni però le imperfezioni evocano anche qualcosa che è uno scarto l'imperfezione a volte fanno soffrire generano un dolore grande si può ironizzare si può affrontare il dolore con ironia come si fa a farlo e in che maniera puoi poterlo vivere prima quando parlavate lei di Renzo e poi Paolo ha risposto ad un certo punto poi il codice si è fatto molto serio no si poteva ridere anche di cose di questo genere in che modo l'altra domanda semplifico davvero la mia domanda perché dico così perché ci è più facile quasi credere in un dio lontano trascendente proprio appunto per parlarne dobbiamo trovare altri modi un corpo che non è corpo una appunto si è parlato del miracolo di tante cose e perché ci è più facile credere in questa figura piuttosto che in una figura che invece ci tocca da vicino che raccoglie quella imperfezione di cui si parla che raccoglie l'umano nelle sue contradditorietà che ci sono perché sembra che c'è una tendenza proprio innata naturale che ci porta a questo fatto bene proviamo a rispondere a queste tre domande allora guarda io se me lo permetto ti lascerei quest'ultima a te Gioele questa idea del Dio vicino e lontano non so al quale paradossalmente nonostante che tutti desideriamo che Dio entri nella nostra vita quando ce lo comunico come vicino quotidiano l'incarnazione la presenza le cose che fa Gesù che non sono non devono fare una riforma della religione racconta le parabole del seme quasi quasi restiamo un po' delusi ci piaceva di più quando era come il faraone quando come l'imperatore quando era come il papa una volta adesso anche il papa poverino fa quello che può invece per quanto riguarda quindi questo paradosso che sollevava Siriac invece per quanto riguarda le altre due dunque la proposta è l'urgenza come equilibrare dunque guardate nel linguaggio del cristianesimo come proposta c'è come dire un buon inconscio e una cattiva coscienza della Chiesa attuale è anche una buona notizia qual è la cattiva coscienza? la cattiva coscienza è la sensazione che l'idea di avere promosso a tutto campo come questione di vita o di morte se no vai all'inferno capisci? la forma cattolica la forma appunto dell'appartenenza istituzionale la forma della vita sacramentale eccetera come risoluzione pura e semplice della fede deve fare un passo indietro non corrisponde alla rivelazione in realtà guardando bene appunto ne ho accennato prima e non corrisponde neanche al dogma anche se noi abbiamo privilegiato una parte non so se voi avete memoria avendo studi teologici l'avete incontrato dunque nell'ottocento ancora fu condannato scusa no nell'ottocento nella prima metà del novecento fu condannato un padre gesuita condannato come eretico dal santo ufficio allora si chiamava così che sosteneva chi muore musulmano ebreo protestante ateo va all'inferno semplicemente per il solo fatto di essere tale indipendentemente da quello che lui il santo ufficio dice questa è un'eresia però se voi aveste chiesto alla gente che usciva dalla messa allora tutti avrebbero detto che questa è la dottrina cattolica extra ecclesiam nulla salos nessuno si sarebbe ricordato che è altrettanto antico altrettanto patristico è l'altro adagio che dice Deus non alligavit gratiam sacramentis cioè Dio non ha vincolato la grazia ai sacramenti cattolici che è un altro grande dogma sul quale un cristiano non può discutere e hanno privilegiato la prima allora la cattiva coscienza non era giusto essere così massimalisti quindi adesso diciamo ecco se vale la prima sei obbligato non c'è libertà se no vai all'inferno se invece la fede è una questione di relazione come deve essere allora sì allora posso dire c'è la proposta cristiana ma il buon inconscio è questo perché è una la proposta cristiana perché il cristianesimo è una proposta mentre la pace con Dio è una questione di vita o di morte e come ci arriva uno lo sa Dio io so poco però sarebbe divertente specializzarsi nell'imparare non nell'insegnare ma nell'imparare in quanti modi Dio trova il pertugio nella vita delle persone saranno sempre pochi ma è molto divertente anche no scoprire tu guarda Dio riesce a farsi beffe questi qui la vogliono lapidare e Gesù riesce la samaritana dice io sono quello che sono e Gesù dice io ti faccio nascere una fontana dentro apprendimento dice guarda che trucchi no ecco il cattivo inconscio e questo scusa il buon inconscio della Chiesa ma non c'è ancora arrivata con le parole il buon inconscio della Chiesa è questa percezione che effettivamente la forma cattolica è la forma di un ministero della salvezza non semplicemente la forma della salvezza la forma di un servizio di una dedizione di una generosità in questo è necessario se non ci fosse nessuno che dicesse questa cosa anomala che è successa nel Vangelo che cosa c'è di anomalo? abbiamo scoperto una religione che non è interessata a se stessa capisci? non è interessata a se stessa è interessata la salvezza del mondo è grata di quando questo succede è molto rispettosa del fatto che la maggior parte dei modi in cui succede ci sono ignoti e noi testimoniamo questo allora questa è una proposta come Gesù fa certo bisogna essere portati come dice lui a questo e grazie a Dio ce ne sono tanti che si sentono portati per questa testimonianza ma non perché sul loro capo pende la condanna dell'inferno che poi magari hanno freddo ma perché appunto questo è servi inutili servi inutili e questo però nella vita che ci sia un cespuglio piccolo grande non importa di persone che si dedicano generosamente a questa testimonianza non perché si salvano più degli altri ma perché questa testimonianza è preziosa persone imperfette come me uomini e donne imperfette come me mi dicono che per la vita c'è speranza perché la sua destinazione è nelle mani di Dio non mi dicono semplicemente non cercano semplicemente di reclutarmi capisci cosa voglio dire non cercano semplicemente di riprodursi ma di dare questa testimonianza ecco per questa non abbiamo abbastanza parole questo rende qualche volta un po' fragile il nostro equilibrio ma però ormai manca poco entro una decina d'anni la Chiesa troverà le parole perché ormai è convinta di questo anche se non sa come dirlo nel modo giusto ma è convinta di questo che la partita vera è appunto la riconciliazione dell'essere umano con Dio come principio di riscatto di questa vita che lasciamo piena di debiti no di cose che avremmo dovuto fare non abbiamo fatto eccetera ci deve essere qualche riscatto di questa vita che abbiamo patita abbiamo anche goduta spesso apprezzo della sofferenza di altri ci deve essere questa ma la maggior parte delle strade e lo Spirito Santo non sappiamo come le fa però per noi mentre custodiamo la nostra testimonianza e proponiamo la forma della nostra testimonianza a qualcuno che sai mai che voglia diventare discepolo non per interesse ma semplicemente perché è bello rendere questa testimonianza di una religione appunto che libera anche dall'ossessione religiosa così dovrebbe essere secondo me la fede evangelica questa è una cosa anche abbastanza emozionante perché nella storia religiosa dell'umanità diciamo è sconosciuta nella storia religiosa dell'umanità le religioni cercano di custodire loro stesse come questione di vita o di morte no? non la vita di tutti come questione di vita o di morte per Dio e l'imperfezione ecco qui c'è una parola dico una parola breve è come il tema della differenza quando è esploso il tema della differenza è il tema della differenza e ci ha convinti adottare questo linguaggio un po' ibrido voi sapete che io ho una ho inventato un conservatorio per i bambini di musica per i bambini autistici per i bambini con delle difficoltà importanti con la parola con la psiche eccetera quindi parlo dal di dentro e abbiamo inventato questo linguaggio delle differenze che sono delle ricchezze e adesso la risposta la risposta del Porn Moderno la risposta di questi ultimi anni che vi ho detto la contemporaneità che la Chiesa vede ancora poco è che appunto adesso si cerca nel neutro si è capita la trappola delle differenze si cerca nel neutro l'essere indifferenziato è il luogo del sogno che non è uomo donna non è non è questo non è quello non è quell'altro ecco l'imperfezione bisogna stare attenti a giocarsela io parlo dell'imperfezione che non è un danno l'elogio della perfezione non deve essere l'elogio del danno una volta lo facevamo anche noi diciamo che grazie che ti ha dato Dio che è nato un bambino sarebbe stato meglio lasciar perdere adesso però c'è anche una versione laica di questa roba secolare figurati lui ha le stesse potenzialità di tutti gli altri anzi le sue deve soltanto svilupparle cosa c'è di imperfetto non dire così faccio fatica a camminare non voglio aiutarmi a camminare invece di dire tutto sommato c'è una qualità preziosa anche nel non saper camminare vuol dire che ci sono altre qualità non fare sta roba invece io insisterei sull'imperfezione buona quella che non deve ferire nessuno che è noi possiamo chiamare coscienza del limite capacità di non prendersi troppo sul serio ecco questa è l'imperfezione buona che dobbiamo coltivare perché diventa persuasiva se io che non sono Gesù non sono Dio non sono i tre di mambre non sono niente è vero ti dico che ho trovato da aggrapparmi in questo Vangelo ecco divento credibile se invece io penso che aggrappandomi in questo Vangelo divento un super uomo una super donna e tu devi aspettare soltanto di colmare la distanza che ti separa da me quella verità appunto che 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 ti che ti sbatte contro un muro capisci e che è difficile in qualche modo poter accogliere con gratitudine ecco e con l'idea che rispetta a sua volta anche la tua imperfezione non quella del danno che dobbiamo invece aiutarci a curare il più possibile capisci ma quella appunto della condizione umana ecco Gioele dici perché un Dio vicino può diventare più come dire può essere preso più sotto gamba di un Dio sovrano di un Dio imperatore di un Dio Faraone che la gente piace forse il Faraone sì è una domanda così difficile dopo quello belle cose che hai detto non non so probabilmente abbiamo paura abbiamo paura che sia vicino perché che possa davvero influire sulla nostra vita e cioè che che alla fine siamo noi perché poi voglio dire siamo noi a doverlo a dovergli citofonare non è che la chiamata almeno per quello che ho capito io cioè non è che lui ti ti illumina sì ti illumina all'alto è una bella immagine però la verità è che sei tu che devi farti vivo ecco poi eventualmente ti chiamo no non eventualmente se decidi che la relazione c'è devi avere una relazione con lui e avere questa relazione è faticoso come tutte le relazioni quindi averlo lontano là così quasi quasi inavvicinabili ne raggiungeva è un bel alibi mi sembra che sia questa la cosa mentre bisogna accettare che io purtroppo la butto sempre in battuta ma sempre le storielle di mio nonno molto brevi c'è quello che sta cercando parcheggio cosa veramente grave è talmente disperato deve arrivare e allora prega ad alta voce Signore Dio ti prego fammi un parcheggio un parcheggio prometto che non prenderò più non farò più anche quella 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 relazione che prometto farò delle offrirò anche quella cosa che ho fatto in quel momento esce uno scusa scusa l'ho trovato l'ho trovato ecco io sono Alessandro Zaccuri sono stato delegato dal direttore della rivista del clero a iniziare direttamente del resto parliamo di letteratura come sapete uno dei modi migliori per raccontare una storia è entrare nel mezzo in medias res allora dopo la bella intensa e anche un po' sorprendente per certi aspetti mattinata continuiamo la nostra esplorazione delle parole che danno vita parlando appunto della letteratura tempo e racconto la letteratura come pensiero della vita ne parliamo insieme con Maria Pieve Ladiano e con Daniele Mencarelli che sono due importanti scrittori che in anni nei quali si dice si ripete magari in maniera un po' lamentosa che la letteratura non affronta più i grandi temi che la lettura hanno dimostrato che invece non soltanto i grandi temi si possono affrontare anche perché se non parla di quelle tre o quattro cose fondamentali che sono la vita la morte l'amore la perdita di che cosa parla cosa parlano gli esseri umani di cosa potrebbe parlare la letteratura ma non solo se ne può parlare se ne può parlare in un orizzonte di senso e se ne può parlare ottenendo un riscontro da parte delle lettrici e dei lettori tutt'altro che tutt'altro che marginale tutt'altro tutt'altro che trascurabile Maria Pia e Daniele hanno molte cose in comune e alcune cose no insomma i colori sono assolutamente in comune sì al di là di quello appunto questo interesse per una narrativa per una letteratura che affronti anche i temi dell'invisibile allora Maria Pia l'ha fatto partendo anche non esclusivamente dal versante della teologia di una formazione teologica molto profonda quindi è una persona assolutamente a suo agio nel consesso di oggi e lo ha fatto con una serie di libri ricordiamo giusto il primo La vita accanto che è stato quello che l'ha un po' rivelata alla critica ma anche specialmente ai lettori dico specialmente ai lettori perché è importante che i libri vengano letti da chi li deve leggere per questa appunto capacità di uno sguardo molto molto attento molto preciso anche sulle piccole cose che poi sono in realtà il grande tessuto dei nostri giorni tra i suoi libri mi piace ricordarne uno lei che è un libro che dà voce a Maria di Nazareth e le dà voce con senza anacronismi nel senso che comunque non è immaginata come una donna di oggi ma senz'altro è immaginata come una donna come una madre come una sposa ed è un libro molto bello e molto anche questo insolito rispetto a rispetto al modo in cui viene riscritta la vicenda evangelica tanti scrittori tanti scrittrici l'hanno fatto lei di Maria Pieve Ladiano ha un elemento di originalità notevole Daniele fa un'altra strada che parte dalla poesia e torna alla poesia dopo tanti romanzi di quattro romanzi molto molto importanti anche questi molto fortunati a partire dalla casa degli sguardi è tornato proprio di recente in questi giorni con un libro di poesia ma lui nasce poeta poi non continuo con la citazione di Cettola Qualunque perché sarebbe fuori luogo però voglio dire lui veramente nasce nasce poeta con alcune raccolte molto belle una in particolare Bambino Gesù che è la cui genesi è raccontata nella casa degli sguardi e di recente appunto tra poche settimane è uscito da Mondadori degli amanti non degli eroi che è il suo ritorno al linguaggio poetico teniamo un po' questi questi tre elementi il racconto la poesia la teologia sono più o meno gli elementi che ci sono nel nostro titolo no? io partirei con una domanda molto semplice stiamo cercando parole che danno vita chiedo subito a Maria Pia ma è la stessa anche per Daniele ma la letteratura dove le trova le parole? cioè da dove nasce la pretesa della letteratura di trovare ogni volta le parole? perché è una bella pretesa perché voglio dire parole le utilizzano tutti ci arrangiamo usiamo quello che abbiamo la letteratura si fonda su questo presupposto su questa speranza su questa rivendicazione di aver trovato la parola giusta per dire da dove da dove com'è che gli viene in mente agli scrittori e gli scrittrici di fare questa cosa? allora io ringrazio per questo invito e sono molto contenta di essere anche lo chiamo un po' fuori porta quando mi capitano queste cose insomma perché altre volte magari ci si trova tra scrittori tra lettori è un pubblico relativamente amico soprattutto quello dei lettori quello tra scrittori non tanto magari però in generale tra lettori è un pubblico relativamente amico invece in altri casi è un pubblico diciamo più più come dire è più vario ecco in questo caso penso che sia così però tra noi che scriviamo diciamo romanzi e voi che amate la parola c'è una c'è qualcosa c'è una consonanza tutti noi crediamo che la parola sia in qualche modo così importante da dedicarci la vita noi in un modo e voi in un altro c'è poco da fare avete scommesso sulla parola perché non so le vostre esperienze personali ma non credo che siano molti che hanno visto Dio nella loro vita visto cioè l'avete incontrato attraverso parole parole particolari che avete o letto o qualcuno vi ha detto e quindi questo potere della parola l'avete conosciuto che è un potere come dire così grande da essere anche ambivalente cioè è di vita e di morte prima lo dicevamo io dico a un bambino sei un cretino ed è un potere di morte da te non uscirà mai niente di buono è un potere di morte dico a un bambino questa cosa è davvero bella oppure è interessante oppure ma che meraviglia ed è un potere di vita dico ti amo è un potere di vita dico ti odio vorrei vederti fuori ed è un potere di vita cioè la parola è potentissima no gli scrittori lavorano diciamo in una fiducia assoluta di poter trovare parole non in generale non la parola divina non il verbo da raccontare non qualcosa che cambi la vita non so quali sono gli scrittori che pensano che il loro libro veramente cambierà la vita delle persone ecco sarebbero da affidare a qualche diciamo specialista della mente se dovessero veramente pensare così noi cerchiamo semplicemente parole per storie belle e queste parole non sono parole che mirano a qualcosa i romanzi più brutti e questo bisognerebbe anche pensare a tanta letteratura per l'infanzia di tanta di tante editrici religiose i romanzi più brutti sono quelli più intenzionali che vogliono edificare che vogliono portare da qualche parte che vogliono dare un messaggio sono insopportabili un bambino lo capisce subito e li fa volare e quindi diciamo che abbiamo come noi ci innamoriamo della parola che racconta una storia che riteniamo degna di essere raccontata perché o è nostra un pochino tutti gli autori sono autobiografici chi dice che non lo è un bugiardo i più bravi sono quelli in cui si vede meno l'autobiografia oppure sono quelli in cui l'autobiografia riesce a diventare immediatamente biografia di tutti e quindi questi sono veramente bravissimi comunque o sono direttamente nostre le storie o sono storie che abbiamo ascoltato dal mondo che abbiamo intercettato credo che i scrittori abbiano un enorme interesse curiosità un enorme anche affetto amore e come dire disinteressata curiosità nei confronti del mondo intorno delle storie che incontrano per me è stato abbastanza facile perché ho fatto sono stata una donna di scuola tutta la vita preside quindi i presidi sono burocrati forse adesso sì ma si può anche noi essere non burocrati e basta un po' impostarlo in un certo modo e prima ancora insegnante e la scuola è il luogo delle storie nessuno dei miei libri parla di scuola direttamente però e questa è un'altra delle operazioni che fanno gli scrittori che è quella di non rubare alle persone per farli diventare personaggi quello che devono fare è evidentemente ascoltare le persone e poi portarle nei romanzi nella loro dimensione di universalità io qui cito una persona e poi chiudo lascio barola a Daniele cito una persona che sicuramente conoscete molti di voi conoscono che è Silvano Fausti non so se vedo un po' di testa che vanno su e giù che è stato un grande amico e anche io sono figlia della spiritualità inaziana tutta la mia vita è venuta all'ombra della vita personale diciamo spirituale all'ombra della spiritualità inaziana un giorno Silvano Fausti che era un lettore accanito di tutto ma soprattutto di romanzi beh naturalmente leggeva teologia in tedesco teologia in spagnolo teologia in inglese poi sapete che bisogna fare un po' la tara perché lui però in ogni caso lui leggeva era veramente un uomo di una cultura mostruosa ma era un lettore formidabile di romanzi e lui mi disse qual era la formula del romanzo del buon romanzo non del capolavoro ma del buon romanzo e citò i promessi sposi il buon romanzo è quello in cui ciascuno lettore può riconoscersi in tutti i personaggi perché noi siamo tutti un po' pavidi come Don Abbondio tutti un po' desiderosi di essere santi come Fra Cristoforo o come il cardinale Borromeo siamo tutti un po' impulsivi come Renzo siamo tutti un po' trafficoni come Agnese siamo tutti un po' bugiardini e farisaici un po' perbenini come la donna Prassede e così via no? laddove un romanzo mi fa da specchio e mi dice io posso essere così ha fatto uno straordinario lavoro perché impedisce il giudizio sull'umanità e immediatamente chi è diverso da me mi diventa fratello quando questo capita e noi siamo contenti allora se Maria Pia diciamo ha ha incarnato e incarnerà il ruolo del narratore io appunto ho presentato da poeta e cercherò di raccontare l'approdo alla parola appunto di chi inizia attraverso la poesia e chi inizia attraverso la poesia ha rapporto con la parola viscerale testori diceva ogni singolo verso è un corpo e io credo e mi viene in mente Pasolini quando un giovane Dario Bellezza che diventò poi suo segretario particolare mi verrebbe da dire e lui disse una cosa che di fronte a una platea di questo tipo fa un po' fa un po' impressione perché disse si il sacerdote di te stesso nel senso indicava tra il poeta e il suo sguardo e la realtà una sorta appunto di legame di sacerdozio e vengo a quella parola che per un poeta è fondamentale la realtà ovviamente tra poeta e realtà c'è lo sguardo e quindi il modo di guardare alla realtà e io non credo da aver mai io non credo che i poeti inventino non credo che i poeti di fronte a una visione che gli ordina senza ovviamente dirglielo di scrivere cerchino ma si mettano semplicemente di fronte a qualcosa che c'è e che deve essere scoperta che già esiste nella realtà io credo che la parola che cerca il poeta sia quella parola che lo congiunge alla realtà e non esiste una seconda in poesia esiste una parola non esistono due e l'altra settimana stavo da uno scrittore amico Angelo Ferracudi nelle Marche a fare un incontro come questo e dicevo proprio come chi inizia a scrivere e chi mano a mano inizia a scrivere facendolo sempre più consapevolmente e compiutamente qual è il paradosso insegue qualcosa di cui non conosce la natura ma che gli si rivelerà nel momento in cui quella natura l'ha afferrata e parlo della parola io vivo e vivo ancora questo momento assolutamente cosmico universale di risarcimento quando all'interno di un testo scrivo e trovo quell'unica parola non esiste una seconda dicevo a loro il concetto dei sinonimi no non esiste seconda parola soprattutto per un poeta e dove trovare le parole e qui entro nella mia poetica io non tornerei mai indietro perché crescere significa aumentare il proprio corredo di parole e sguardi sulla realtà e io le parole le trovo le ho sempre trovate per obbedienza due sentimenti di ringraziamento rispetto all'amore e di testimonianza testimonianza perché il ruolo testimoniale della letteratura è uno di quelli che deve essere più riscoperchiato riesumato riproposto perché manca tanta letteratura che testimoni gli accadimenti di questi tempi ecco io trovo le parole in questo sentimento assolutamente infantile che infantile rimane pure se quest'anno faccio 50 anni di amore ringraziamento e testimonianza e il tema del ringraziamento è un grandissimo tema cioè Oden uno dei più grandi poeti del secolo scorso ha questa frase in cui disse il compito della poesia ma della letteratura in generale è quello di fare un'unica cosa ringraziare per tutto quello che esiste perché esiste quindi questo atteggiamento proprio di di resa rispetto alla realtà adesso non è la tentazione di contraddire la preside però un pochino anche quello però quando tu dici che lo scrittore la scrittrice che pensa di cambiare il mondo poi però dici anche e giustamente secondo me come si cambia il mondo con i suoi libri insomma è un po' da parlargli con calma non succederà niente sediamoci esatto però è vero anche che tu dici il ragazzo il lettore la lettrice che fa esperienza dei promessi sposi fa un'esperienza quindi qualcosa può cambiare insomma dentro mi piacerebbe se sia tu che Daniele poi ci diceste qualcosa di questo tema della letteratura come luogo dell'esperienza perché questo è uno dei grandi cioè uno dei grandi dilemmi che abbiamo conosciuto nel corso dei secoli cioè noi oggi pensiamo pensiamo alla lettura come una cosa senz'altro buona mentre altre cose social così eccetera non sono buone però non per dire che andrà a finire così ma la storia della letteratura e della lettura è piena di casi in cui la lettura e la lettura di romanzi in particolare viene additata come attività pericolosa la storia di Don Quixote è uno che appunto arrivano il barbiere e il parroco e gli buttano via tutti i romanzi cavallereschi perché questo mi è uscito di testa ma due secoli dopo quando abbondanti quando Madame Bovary tradisce il signor Bovary eccetera cosa fanno le portano via i romanzi d'amore perché i romanzi insomma quindi voglio dire si fa esperienza un po' ti cambia ti cambia la testa noi adesso non non siamo più portati a buttare i romanzi i cavallereschi di Don Quixote che avevano il problema che erano scritti abbastanza male quelli che leggeva lui non abbiamo più forse questa preoccupazione verso le storie d'amore dell'ottocento di Madame Bovary e ci domandiamo però che cosa ce ne facciamo della letteratura della lettura dell'esperienza che facciamo attraverso i libri cosa ce ne facciamo allora farei un po' di distinzioni nel senso che diciamo sul versante dello scrittore l'intenzione di cambiare il mondo è patologica cioè se io scrivo un libro per migliorare la società ripeto un buon analista mi può aiutare però sul versante del lettore lo scrittore scrive solo bei libri belle storie si lascia guidare dalla storia la storia è una storia che racconta un pezzo di vita che lui ha intercettato che può non conoscere benissimo anche se deve conoscere ciò di cui parla non potrei scrivere un libro ambientato a Istanbul errore tipico dei nostri ragazzi quando noi gli diciamo inventa una storia e gli raccomandiamo di qualcosa che conosci loro dicono no no io faccio vabbè però sono buffi ridicoli impossibili non intercettano niente non danno non c'è il colore non c'è l'odore non ci sono manca tutto quindi comunque si deve conoscere ciò di cui si parla però l'obiettivo non è cambiare il mondo ma è scrivere una bella storia con le parole giuste per quella storia lì quando questo è accaduto può cambiare il mondo ci sono libri che hanno cambiato il mondo almeno il mondo individuale di chi li ha letti che non è mica poco voglio dire non è mica poco cioè non è poco che mi cambino la vita perché l'ho letto perché ho letto un libro allora in senso estremo non so se Daniele era d'accordo tutti i libri ci cambiano ma tutti 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 averlo letto non averlo letto ci cambia tra l'altro un po' diciamo lo dico senza polemica ma quando si incontrano persone che leggono libri li si riconosce cioè li si riconosce per posso dirlo insomma mi dispiace una capacità umana maggiore una capacità di anche quando si incontrano preti che leggono libri lo dico con sincerità ci si riconosce insomma tra persone che lo fanno perché allora faccio un esempio che prendo dalla mia storia di studi teologici per motivi di età sono riuscita a intercettare quella linea di confine tra la vecchia teologia e la nuova teologia la definisco così un po' spartanamente per dirvi io sono riuscita a studiare il padre Sartillange non so quanti di voi sanno chi è vedo che sono pochi perché siete tutti più giovani probabilmente comunque era uno scrittore un autore un teologo francese che scrisse un trattato molto famoso su cui tutti i teologi della metà del novecento più o meno sono formati che era sul tempo il problema del male due tomi le mal l'histoire oppure le mal le problem a seconda delle edizioni le mal la soluzione la soluzione questo era il secondo il primo era grosso così il secondo grosso così andarlo a vedere ce l'avete sicuramente nella biblioteca di questa splendida università per una donna nata nel 1960 curiosa non particolarmente rivoluzionaria figlia di contadini della campagna veneta il secondo volume era scandaloso insopportabile chiudeva il cerchio della domanda lo chiudeva in tutti i sensi muore un bambino abici di muore la moglie abici ma vi rendete conto io ricordo di aver pensato non può essere così non può essere che un trattato teologico sul tema che è il fondamento di tutti i temi della vita cioè non c'è nessun tema più importante più serio direbbe mio amico Gesuita del tema del male mi dia un volumetto così in cui mi dà la risposta capite e mi ricordo che contemporaneamente leggevo leggevo in modo e leggevo i russi leggevo i francesi cioè mi sembravano infinitamente più interessanti ma anche più interessanti teologicamente più interessanti non umanamente più interessanti ma teologicamente e lì mi sono fatta una opinione precisa io non mi sono più schiodata da questa opinione ed è la ragione per cui laureato in teologia ho deciso che avrei scritto romanzi che c'era più teologia nei romanzi di tutti i trattati teologici possibili e immaginabili su qualsiasi tema l'unico tema a cui riconosco un'assoluta libertà sono i testi di studio della Sacra Scrittura biblici cioè proprio studi biblici puri perché quelli sono meravigliosi sono solo aperture non c'è nessuna risposta sono solo aperture è tutta ermeneutica ma nel senso non sterile bellissima nel senso di riconoscere che la vita è più aperta di qualsiasi risposta allora i romanzi hanno questa possibilità quindi sì che cambia nel mondo io contesto che però l'autore deve proporsi questo diciamo questo scopo quando scrive sarebbe uno scopo un onnipotenza un delirio di onnipotenza naturalmente ci sia contenta di scrivere bei romanzi e belle poesie bellissime poesie no Maria Pia a me fa pensare a quanti narratori invece diciamo partano proprio dal presupposto che non di cambiare il mondo ma di non aver bisogno del mondo né come sguardo iniziale né come speranza e aspirazione finale rispetto alla lettura e alla letteratura come esperienza parto da una citazione di un poeta milanese dialettale che ho avuto l'enorme fortuna di conoscere che è Franco Loi e Franco diceva la poesia è una richiesta d'ascolto ed è vero la bellezza è che si pone come richiesta d'ascolto ma l'ascolto che il lettore dà al poeta lo scrittore è un ascolto che poi diventerà importante se non fondamentale per la propria vita c'è questa c'è questa strana triangolazione sempre irregolare sempre sul punto di essere sul punto di incrinarsi ma il bello è che in fondo un poeta uno scrittore dice ascoltami leggimi perché molto probabilmente che sia attraverso l'invenzione la biografia per me questi sono termini diciamo mercantili per me conta solo la lingua ma ascoltami perché spesso io ti metterò in contatto farò nient'altro la mia lingua sarà da mediatrice tra te e qualcosa che non hai vissuto ma riguarda te e questo vale sia per i grandi eventi della storia ai ragazzi dell'altra settimana ho letto dei tanti i poeti sul fronte italiano della grande guerra ho letto Ungaretti e Rebora due tra gli altri ma se pensiamo ai francesi e gli inglesi e i tedeschi è qualcosa di pauroso ho letto dei poeti per far capire che il poeta è quello che vive le cose che vivono gli altri ma le sa ridire in più però c'è tutto quell'altro versante che oltre a essere testimone della storia e quindi a come dire a diventare memoria il poeta poi è quello e qui venga un altro poeta che invece non ho avuto la fortuna di conoscere che è Remo Pagnanelli morto suicida nell'85 e poeta fa fare al lettore attraverso la lingua poetica l'esperienza del sempre e del presente cioè questi due grandi elementi che si uniscono nella lingua perché da Omero in poi diceva Leopardi non abbiamo inventato più niente spetta al poeta spetta all'uomo che guarda all'uomo sentinella all'uomo che si ritiene anche intellettuale prendere i temi del sempre e portarli nei codici e nella lingua del presente questa è la grande sfida esperienziale a cui aspirano scrittore poi aggiungo un altro dato ormai siamo diciamo in una fase post-post ideologica forse dobbiamo iniziare a chiamarla una fase neo e qualche cosa ma a me viene in mente l'ho vissuto in maniera marginale per anagrafia la grande tematica dell'emulazione e quindi non solo della letteratura ma di tutte le narrazioni e quali elementi di emulazione beh ormai è stata confermata dalla storia cioè le narrazioni che siano buona letteratura o pessima fiction o pessima cinematografia o quello che volete voi non solo tendono a diventare esperienziali ma creano un modello per chi le guarda e le vive cioè ormai su questo Umberto Eco mi permetto di dire è superato il bambino che gioca col carri armato come diceva lui lui diceva lui non giocherà con i carri armati no adesso è dimostrato un po' il contrario sì no la battuta di Etko era anche più complicata perché è un episodio del diario minimo lui va in Germania cerca appunto vuole comprare un fucile giocattolo per suo figlio e il negoziante gli dice che loro sono contro la violenza quindi non vendono dopo la guerra non vendono più queste cose e lui gli fa questa battuta crudele che però è interessante perché appunto ti dice come possono il tema della responsabilità individuale ma chissà che cosa giocava Goebbels da piccolo forse con i trenini i treni per Auschwitz quindi bisogna stare bisogna non sai mai dove va a finire l'esperienza volevo rassicurare che senz'altro abbiamo tutta la teologia quella lì abbiamo in biblioteca abbiamo anche le carte di Franco Loi quindi questa è una questa è una è una bella cosa volevo riprendere uno spunto di Maria Pia per pensare ripensare questa fase chiamiamola neonarrativa di cui parlava giustamente Daniele tu dicevi che fanno eccezione agli studi biblici la Bibbia fa sempre eccezione perché sono tutte storie poi esatto ma qui volevo arrivare quello che colpisce è che non soltanto la Bibbia plurale dei libri quindi una biblioteca in realtà non un libro ha dentro tante storie nel primo testamento ma che il linguaggio sorgivo il linguaggio originario del messaggio di Gesù passa attraverso il racconto sempre esatto è interessante questo perché poi noi abbiamo costruito un mondo di teologia che poi ci pensa un po' la teologia è sistemata è sempre sistematica c'è un problema lo analizza lo sviscero prendo tutto quello che è stato detto oppure meglio che poi chiudo io mi aspetto che se compro un libro di morale alla fine insomma qualcosa trovo che mi dice non dico la parola divina sulla morale però mi dice più o meno come deve andare a finire ed è sempre come dire esoterico rispetto a un Vangelo che non che non ha questa dimensione che ha sempre tutte storie ha talmente tante storie che sono storie che si contraddicono qualche volta per cui poi gli esegeti devono un po' farci un lavoro dietro perché essendo storie allora perché si contraddicono perché la vita è così scappa scappa al sistema non c'è un sistema scappa necessariamente ed è quello il punto allora uno dice ma allora di cosa parliamo eh vabbè posso come dire mi viene questa idea non lo so siete voi che poi fate le prediche no? non noi infatti ho sempre detto che sono felicissima di essere una scrittrice che non deve fare queste robe qua però mi viene in mente Bonhoeffer ad esempio quando Bonhoeffer andò in America voi sapete che andò in America a un certo punto invitato dalle comunità americane vedevano tra l'altro che le cose non andavano bene speravano di salvarlo questa è la verità insomma cioè cercavano di sottrarlo a quello che stava capitando in Germania lui andò in America e ci rimase qualche mese non so forse anche un anno e lui c'è una corrispondenza fittissima con la fidanzata con l'amico Eberhardt eccetera da qui emerge una cosa che lui era sconvolto di come in America adesso guardate che il mondo adesso americano è cambiato non apriamo questa questa parentesi però all'epoca era sconvolto di come in America i predicatori predicassero il Vangelo dicevo questi diceva questi prendono il Vangelo della Domenica e spiegano il Vangelo predicano il Vangelo in Germania le prediche erano moraleggianti i sermoni erano tutti moraleggianti per non dire politici poi quando è arrivato tutto e lui tornò cambiato cioè lui tornò naturalmente non so è interessante sarebbe interessante ma ci sono anche studi molto Gallas avrete tutto qua che annaizzano anche questo problema di quanto l'America abbia influito sul suo pensiero però lui tornò e uscì tutta la sua predicazione fu predicazione a partire solo dal Vangelo a partire aveva una cultura teologica mostruosa allora io dico sempre un po' scherzando adesso non prendetevela io faccio la expat delle messe cioè io vado a messa dove capita perché viaggio tantissimo di domenica sono sempre da qualche parte del mondo tranne quando mi fratturo un po' il suo destro che devo stare a casa per mesi ma per il resto sono a Catania a Roma un po' dappertutto come immagino anche come Daniele e quindi ho diciamo una visione delle messe più bizzarre da nord i miei amici dicono facci un libretto perché poi a cena racconto e loro non ci credono beh ho visto vedo cose che voi umani allora lì no veramente allora lì la qualità la qualità ecco che riconosco è sempre legata la fedeltà del Vangelo della Domenica quando ed è come il romanziere è come il romanziere quando uno scrittore scrive per insegnare qualcosa per dire qualcosa per affermare un'idea politica per affermare un'idea sociale fa delle cose orrende quando scrive per creare per essere fedele a una storia che gli è arrivata e che desidera condividere come quello che fa un'omelia che è fedele a una storia che gli è arrivata talmente tanto che gli ha cambiato la vita e l'ha determinata e desidera condividerla attraverso quello strumento attraverso cui lui è arrivato a questa vita nuova allora che è il Vangelo naturalmente allora funziona allora funziona quando c'è questa assoluta libertà di non portare l'uditorio a venire a messa la domenica dopo o a votare qualcosa non ci pensa più nessuno perché facciamo quello che vogliamo oppure ad avere un'opinione precisa sulla che ne so io sulla fine vita l'aborto no si annuncia il Vangelo cioè si annuncia quel Vangelo che ha cambiato la nostra vita noi scriviamo storie che abbiamo riconosciuto belle da raccontare io traslo il discorso da un versante spirituale da da una fede lo traslo lo faccio diventare laico perché il discorso che ha fatto Maria Pia è lo possiamo trasportare tranquillamente nelle aule scolastiche delle nostre scuole dei vari livelli delle nostre scuole perché ecco parole che danno vita il titolo bisogna dargli vita nel senso che poi che sia un prete un'omelia o che sia un professore io ho incontrato da tutto chiede salvezza centomila ragazzi dal vivo e e torno anche al tema della letteratura come esperienza io sono un figlio diciamo dell'esperienza della letteratura e sono un figlio perché perché un'insegnante di scuola media una mattina in una provincia una frazioncina microscopica della provincia sud di Roma colse un momento colse una breccia nel cuore di un ragazzo e fece diventare quel momento un momento d'educazione assoluto e questo è proprio il problema dobbiamo dare vita alle parole cioè le parole poi e soprattutto la letteratura e credo anche i Vangeli su questo credo come dire viaggino parallelamente io incontro tante professoresse di italiano che mi dicono ma come faccio a a trasmettere l'amore per la letteratura e l'amore l'amore si trasmette attraverso l'esperienza dell'amore cioè se tu una fiamma pensi di poterla passare spenta non la passi passi una fiamma accesa io ho amato dai 15 anni in poi la letteratura è nata questa curiosità che non mi ha più abbandonata ne ho 55 quindi sono 35 perché ho trovato un essere umano che ha passato una fiamma accesa pensare di trasmettere una parola che sia evangelica che sia letteraria che sia di qualsiasi disciplina umana senza questa tensione interiore senza questo sottotesto ti trasmetto qualcosa che è importante innanzitutto per me questo è il grande tema che oggi ad esempio riguarda il tema della cura dei ragazzi il tema della malattia della fragilità la reciprocità nel momento in cui trasmettiamo non possiamo essere dei trasmissori che non sono parte di quello che trasmettono che stanno nella parola che trasmettono e la letteratura e i Vangeli non chiedono niente di meno chiedono tutto è proprio questo la domanda non è che cosa fare ma è come essere e come siamo lì ci sono dei livelli di onestà che sono che sono diciamo legati a quello che noi possiamo tollerare perché io capisco che a volte non possiamo tollerare umanamente di essere completamente onesti con noi stessi parlo per gli insegnanti non parlo ad esempio per i presenti però ci sono insegnanti che non hanno la passione dell'insegnamento l'atto di onestà sarebbe non ci si cambia a 55 anni sapete cioè non è che l'atto di onestà sarebbe cambiare mestiere però non so cosa fare non so insomma quindi capisco che c'è un livello di onestà a cui non possiamo arrivare immagino anche una vocazione che si scopre non essere più così solido comunque di non essere di non poter trasmettere l'amore che non abbiamo è chiaro che allora io non dico che tutti debbano prendere le estreme conseguenze della consapevolezza che hanno però capire che non possiamo dare quello che non siamo e che quindi siamo chiamati a essere ci aiuta a spingerci sul lato dell'essere per quanto possibile chiunque di noi che sia anche di noi qui dentro una volta l'ho detto in un carcere questa frase e ci abbiamo messo un'oretta a essere d'accordo all'inizio non erano molto d'accordo i carcerati io ho detto chiunque di noi qui dentro è fortunato perché comunque abbiamo un tetto stiamo mangiando stiamo nutriendoci sul piano intellettuale spirituale ripeto che non erano tutti contenti qualcuno ha detto sì però la libertà sì però dicono abbiamo più di altri che hanno le bombe sulla testa ma abbiamo fatto tutto un ragionamento sui nostri livelli di fortuna però i livelli di fortuna di un pubblico di questo tipo cioè di un consesso di questo tipo è altissimo abbiamo cultura aiuti fraternità le cose non vanno tanto bene parlo della scuola lavoro collettivo sostegno collettivo nella scuola non so fare una cosa la chiedo a un collega e allora siamo pieni di strumenti non siamo isolati e quindi recuperare la possibilità di quell'essere che magari riconosciamo in cui riconosciamo di essere carenti non vuol dire buttare tutto al vento cioè dire cambio mestiere no vuol dire trovare nella fortuna che noi stiamo vivendo delle possibilità che sono spesso proprio l'apertura chiedere aiuto essere insieme anche senza chiedere aiuto essere insieme andare lì a vedere come fa quello lì che è più bravino che ci riesce meglio andare a capire qualcosa per migliorare quel lato lì quel lato lì quando ho visto il programma definitivo perché poi Don Giuliano l'ha fatto un po' lui alla fine il programma definitivo e ho visto che insomma l'esplicazione del titolo era il pensiero il pensiero com'è che si dice il pensiero come pensiero della vita e da quello che stiamo dicendo sta parola pensiero la dobbiamo un pochino spiegare nel senso che è un pensiero forse diverso differente da quello della letteratura rispetto a quello che noi immaginiamo il pensiero noi immaginiamo il pensiero del pensatore pensiamo appunto immaginiamo per sistemi immaginiamo per non voglio insistere su questo tema ma sì per risposte però è vero che la letteratura ha un suo pensiero e che è un pensiero straordinariamente ricco straordinariamente aperto alla contraddizione c'è un film che a me aveva molto colpito quando l'ho visto tanti anni fa non un film famosissimo però insomma la storia di questa insegnante appunto che finiva dentro un delitto sanguinoso di cui non si capiva il motivo un uomo che arrivava a casa sua e si suicidava senza motivo nella sua cucina al mistero di Weatherby si chiamava e lei il giorno dopo andava in classe perché era un insegnante inglese scuola per signorine eccetera e diceva ragazze oggi facciamo lezione su lezione su Shakespeare il tema è come mai ci interessano tanto le tragedie di Shakespeare quantunque esse parlino solo di tiranni che è una bella domanda in effetti perché parlano soltanto di gentaglia cioè Ray Lier Macbeth gente che che ammazza tradisce eccetera eppure in qualche maniera il pensiero della letteratura mi verrebbe da dire che è il pensiero dell'altro pensiero di un'alterità che a volte appunto è l'alterità minacciosa di Ray Lier eccetera altre volte invece è un'alterità che salva un'alterità luminosa e a volte invece tenebrosa che pensiero ha la letteratura io qui farei rispondere a Daniele Mancarelli perché no posso dire questo perché i suoi libri forse come dire in modo assolutamente spontaneo in modo non intenzionale che ritengo che sia assolutamente un pregio spero che sia stato chiaro fino adesso hanno questa straordinaria diciamo possibilità di un pensiero che è pazzescamente universale oggi che è il problema dell'oggi no anche perché e quindi lascerei se posso a Daniele ma io ritorno alle parole iniziali di Alessandro quando ha detto in fondo la letteratura di che deve parlare di che cosa ha sempre parlato vita morte amore perdita queste presenze invisibili che chi percepisce chi non percepisce penso alla poesia mi viene in mente il verso meraviglioso di Mario Luzzi di che cosa è mancanza questa mancanza che è un tratto ne sei pieno io per scrivere un verso così dare un mignolo perché scusate è talmente straordinario e oggi come non mai ecco torniamo alla neonarrativa a me piace questo termine che abbiamo coniato qui perché poi chi scrive inventa anche parole poeti io credo che oggi come non mai colgo proprio anche dall'esperienza diretta di frequentazione con i ragazzi un enorme ritorno un enorme ripeto ritorno al desiderio alla brama di tutti quei temi che riguardano il significato dell'esistenza e lo dico con un pizzico anche di cinismo ma con estrema sincerità ecco con onestà e nel 2017 quando io come si dice oggi switchato dalla mia carriera di poeta a quella di narratore io ho fatto un'operazione una riflessione che era assolutamente netta ed era questa io scommetto su un dato porto dentro un'arena un'arena diversa diversa che non è quella dei versi più elitari esclusiva di nicchia tribale mettete voi gli aggettivi porto dentro un'arena di racconto dentro un'arena più popolare tutto sommato meno impaurita più curiosa porto i temi i temi del sempre porto le domande di significato che oggi e queste sono parole di Don Matteo Zuppi che ho visto a Bologna circa un mese e mezzo fa io ho preso quei temi li ho messi nei romanzi per tentare la grande operazione che va fatta oggi far tornare le domande lecite cioè far tornare le domande sul senso sul significato sulla morte su Dio sull'assenza di Dio su quello che volete voi far tornare queste domande lecite perché noi veniamo da un lungo periodo in cui queste domande erano semplicemente illecite queste domande per automatismo ancora oggi demandavano non all'umano ma al patologico e questo è è stato il pensiero assolutamente ripeto razionale che mi ha portato poi a scrivere romanzi e vi assicuro lo dico con grande non ottimismo ma realismo i nostri figli che rischiamo di inquadrare in maniera sommaria e superficiale solo per fragili questa parola che io io non amavo la parola sensibilità difendevo la parola fragilità adesso inizio a detestare anche la parola fragilità perché i nostri ragazzi quando ci interrogano i più delle volte fanno domande di senso di significato il problema è chi sta dall'altra parte cioè il problema è che manca il pensiero non ai ragazzi cioè i ragazzi sono aspirano desiderano ambiscono ad arrivare a un pensiero il problema sono le nostre generazioni dei cinquantenni sessantenni che sono totalmente sprovviste di qualsiasi pensiero temo di essere terribilmente d'accordo sul fatto che noi abbiamo un problema noi io sono più vecchia di qualche anno insomma però abbiamo un problema cioè che siamo degli adulti che hanno fallito posso dirlo si può dire che potevano fare meglio che avrebbero potuto fare meglio ad esempio parlo per me perché per non allargare no nel senso credo di avere fatto tutte diciamo tutta la parabola cioè ho vissuto la meraviglia assoluta della scoperta di una fede di una fede bella e come dire che poteva che avrebbe potuto cambiare il mondo e ci abbiamo creduto in tanti e poi la parabola anche bellissima dell'uscita della donna dallo stato di minorità la parabola io ho fatto anche l'ambientalista sono stata nella WF Veneto come delegata regionale la parabola dell'ambientalismo che ho seguito per la rivista Il Regno insomma la mia generazione e tutte queste cose come dire comunque non hanno portato a un futuro a un mondo che possa essere diciamo per i nostri figli carico di speranza perché lasciamo loro un mondo complicato allora uno dice vabbè però era complicato anche nel Medioevo però era complicato anche nella Prima Guerra Mondiale però era complicato nella Seconda certo che sì certo che sì ma alcune cose come i diritti l'affermazione del valore della pace i diritti delle donne delle minoranze cioè le abbiamo pensati per sempre e invece non è per sempre abbiamo scoperto che niente è per sempre la Bibbia lo sapeva già ma noi ci eravamo fatti la nostra bella illusione adesso noi parliamo non lo so voi parliamo dicendo sempre le cose in cui crediamo perché ci crediamo davvero ma non sappiamo dove attingere la la forza perché ci sembra di non averla più quella convinzione ottimistica che potevamo naturalmente l'ottimismo è tante cose no può essere un ottimismo della volontà e quindi sono ottimista lo stesso però ecco è un ulteriore passaggio quello che noi dobbiamo fare credo ed è quello di pensare che davvero ma davvero dobbiamo fare di tutto perché la nostra delusione non passi ai figli perché noi veramente non pensiamo che loro siccome noi non abbiamo fatto quello che avevamo sognato necessariamente faranno come noi o peggio di noi perché credo davvero che loro possano fare meglio se noi non li carichiamo della nostra delusione non è facile parlo da insegnante qua ma volendo anche da da come dire credente se vuole aggiungere qualcosa Daniele poi andiamo a chiudere ci siamo accordati sul fatto che le due tavole diciamo che si susseguono i due tavoli che si susseguono il pomeriggio sono forse hanno un profilo così singolare ciascuno che dopo l'intervento di Daniele se ci sono un paio di domande Daniele e Maria Pia rispondono volentieri e poi lasciamo spazio al panel successivo no mi riallaccio velocemente alle parole di Maria Pia perché ha secondo me sfiorato uno dei grandi temi io credo delle grandi piaghe non credo di esagerare di questa epoca specifica e qui racconto qualcosa che non è per sentito dire ma ho vissuto io ho vissuto il crepuscolo del novecento quindi la fine di un'era quella analogica l'avvento della nuova era questa digitale e io ho vissuto come forse l'ultima generazione perché poi che è nato negli anni ottanta non ha avuto questa possibilità io sono nato a metà degli anni settanta di avere a fronte di una vitalità che chiedeva domandava di sede e significato di avere a disposizione dei maestri questo è il tema più grande secondo me e più devastato di questa epoca e questa sala è come per tutto il mondo cattolico un meraviglioso a parte ma è anche una percentuale mi viene da dire minoritaria rispetto alla totalità del mondo della cultura oggi non esistono i maestri ma posso fare l'esempio sulla mia esperienza biografica io dal primo treno preso per andare a Bologna da Davide Rondoni il secondo a Milano per andare una settimana da Milo De Angelis ospite a casa di Milo De Angelis le nuove generazioni non hanno a disposizione i maestri oggi tutto ciò che accade a livello verticale tra generazioni avviene dietro pagamento io non ho mai pagato nessuno per essermi maestro è sempre stata una scelta reciproca lui leggeva in me qualcosa io sentivo in lui qualcosa questo questo tema secondo me è una delle grandi sfide una delle grandi inversioni che dobbiamo fare perché poi evidentemente la storia procede in avanti quando recupera anche quegli elementi del passato che il progresso ha smarrito la necessità di riannodare il rapporto verticale tra generazioni la possibilità di trovare maestri che sappiano dare parole oggi questo è assolutamente impossibile se non si hanno a disposizione i soldi perché tutto a pagamento vuoi scrivere paghi vuoi dipingere paghi no i maestri facevano bottega si prendevano quegli allievi che in cui sentivano qualcosa di loro stessi e questo secondo me è quello che manca più di tutto e tutti ai ragazzi di oggi i maestri qualcuno che vada da loro spontaneamente senza chiedere nulla in cambio l'attivo più frequente di Gesù nei Vangeli è maestro quindi ci sono domande per i nostri relatori sì qua due parlo dall'idea del maestro perché io sono rimasto nella mia vita in sottinanza di tre maestri che si deve come trae Martini Mazzolari e Milani e mi hanno insegnato il potere della parola il valore della parola nella lettura dei bambini che abbiamo fatto sul mondo nella lettura del sociale maestri come la fede è capace di leggere di dire una parola che da un punto di vista educativo e Milani no? e in questi molti le ho detto tutto di quella che le autore mi ha sempre affascinato e mi hanno dato il gusto della parola adesso che parlavi tutti i maestri dico è una delle cose che io ho perso più fatte nella chiesa molte oggi sono una carta forse anche di maestri capaci di dire parole non siamo prologui ma che sono efficaci e capaci di dire qualcosa di muovere qualcosa dietro e la cosa che mi ha detto tra gli autori che è stata tra le maestri e mi ha come posso io nel mio a mia volta tentare di dire parole di qualità parole che lasci un segno e che siano una una percezione che vada a pena di informarti di muovere come le cose di pensi non è grazie un'altra domanda qui forse è l'ora di vedere un po' di maestre magari questa c'è una invisibilità tale per cui saranno proprio finiti questi maestri e pazienza Io vorrei solo dire una cosa a Maria Pia, che questo, per dire, questo libro è dedicato a una delle mie maestre, forse la mia maestra più grande che è Giovanna Sicari, che è stata una poetessa morta troppo presto, forse la più grande del secondo novecento, ma... Meno presidi, più maestre. Mi piace l'idea della letteratura non intenzionale. Chiedo solo, il genere letterario delle favole, come sono molto piaciute sempre, hanno sempre una morale, no? E poi, come combinare il fatto che non sia intenzionale con la svolta di Mencanelli, che ha detto, a un certo punto ho capito che c'era bisogno di una letteratura che ponga le domande. Ecco, questo volevo chiedere. Daniele risponde per se stesso, ma io ho capito che tu poi non davi le risposte, cioè, ponevi le domande. Se me ne date una di risposte è mettere, come dire, rinnovare le domande. Il problema ad oggi è rendere attuali e lecite le domande, perché il problema è esattamente questo. Quindi io ancora adesso esco da qui e mi metterò a cercare risposte, quindi se vuole venire con me facciamo un lungo tragitto assieme. Le favole sono un genere letterario che va, diciamo, preso per quello che è, infatti tutto per dibattito anche contemporaneo che c'è stato, no? Sulle favole, non favole che sono sul maschile e femminile. Allora, è un genere letterario molto, molto particolare, che ha delle sue regole, regole proprio narrative, e anche dei suoi codici interpretativi. Intanto se sono veramente favole sono rivolte all'infanzia, hanno tutta una semplificazione, però anche quella, voglio dire, la lettura, che poi la favola ha tanti strati, ha un inconscio pazzesco dietro, ha un inconscio anche collettivo. Il cappuccetto rosso non è la favola che insegna ai bambini a obbedire ai genitori, è la favola che rende lecito ai bambini disobbedire ai genitori, perdersi nel bosco, incontrare la paura, il lupo, e semmai, diciamo, quello che succede è che se c'è un adulto competente, che è un cacciatore che sta attento alle cose, ci si salva. Se c'è un adulto distratto che si fa gli affari suoi, il lupo se li mangia. Quindi la favola dipende anche da come noi la interpretiamo, insomma, l'interpretazione tradizionale delle favole moralistica è la stessa interpretazione tradizionale del Vangelo moralistico, ma noi ci stiamo liberati attraverso l'analisi del testo, di tutto questo, insomma, ecco. Un'ultima domanda. Già stamattina, poi ancora a maggior ragione dopo questa conversazione di questo pomeriggio, mi veniva in mente una poesia di uno dei poeti che io amo di più, che è Montale, che è Non chiederci la parola, dove sembra essere poi molto negativo sulla possibilità, in fondo, che il poeta, o comunque lo scrittore, offre quelle parole capaci di squadrare la realtà dalla parte di ogni lato, e alla fine dice solo questo possiamo dirvi, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Ecco, prima appunto Mecarelli diceva io cerco la parola giusta, quella che non può essere sostituita. Come stanno insieme queste cose? Cioè, in qualche modo anche la consapevolezza del poeta che non arriva fino in fondo a quella parola capace di inquadrare e di squadrare la realtà, e che forse bisogna guardarsi da quell'uomo che se ne va invece troppo sicuro di sé, no? Questo è un bellissimo tema, diciamo che a cui io dedico tanto tempo, perché da sempre la poesia non è la parola definitiva, non è la parola ultima, però in realtà, attenzione, perché Montale con quel verso finale trova le parole giuste per dire quello che voleva dire. Cioè, c'è questa, come dire, è questa lingua biforcuta che afferma in modo esatto, partendo però dal presupposto che l'umano continuerà a cercare nuove parole esatte, non so come altro dirlo. Lui in quella poesia fa un gioco, è una poesia di poetica poi sostanzialmente, perché lui appunto trova le parole per non dire, ma trova le parole più giuste per non dire. Altra cosa è dire, affermare, io porto la parola definitiva, è quello che diceva prima Maria Pia, è l'autore, cito Don Zuppi, è l'autore che culla la propria iolatria, che crede di essere l'uomo che porta una parola definitiva, nessuno per fortuna la porterà. Però lì Montale gioca tra senso e che forma, cioè nella forma è assolutamente compiuto rispetto a quello che vuole dire, negando quello che sta dicendo. È questo gioco. Del resto, una parola detto il mio signore, due ne udite. Le sessioni finali degli incontri e dei convegni sono sempre le più complicate, perché c'è il debito glicemico per alcuni e il sovraccarico di attenzione per gli altri, e quindi speriamo che la pregnanza del tema ci tenga tutti desti, e oltre che ovviamente, ma di questo sono sicuro, la qualità degli interventi dei nostri ospiti. Tra le parole che danno vita, sicuramente le parole che guariscono sono, le percepiamo come le più importanti. Le percepiamo più importanti, soprattutto perché ci toccano molto da vicino. Toccano molto da vicino professionalmente, metto questo avverbio tra virgolette, perché quella del prete non può essere interpretata come, in senso stretto, una professione, comunque è un'attività prevalente della vita, e certamente questo, l'attesa di una parola che guarisce, è spesso un'attesa esercitata nei confronti di chi esercita il Ministero, e appunto chi si trova a svolgere per professione, appunto un'attività terapeutica come uno psicologo, uno psicanalista, appunto è intimamente toccato da questa forma della parola. Quindi io immagino che il tema sia abbastanza caldo, ed è anche un tema evidentemente molto delicato, perché il tema di una parola che è detta nell'intimità di un rapporto a tu per tu, in particolare con persone che o vivono un momento di disagio, o addirittura un momento di patologia, o che più normalmente richiedono parole che orientino nel cammino complesso della vita, che è un cammino di tutti. Ecco, questi sono temi molto delicati, e anche temi nei quali bisogna entrare con finezza e con grande circospezione. Quindi non poteva mancare all'interno di una giornata dedicata alle parole che danno vita, questa parola che guarisce. ci accompagneranno, ci daranno suggestioni, io penso, molto efficaci, due persone di grande qualità, che questi territori li abitano frequentemente e con grande intensità. ve li presento brevemente, Francesco Stoppa, psicanalista, non professore universitario, ma appunto terapeutica, che ha lavorato molto nell'ambito dei servizi, e quindi che ha un'esperienza diretta, di presa diretta con appunto il tema di cui stiamo per conversare. autore di parecchi importanti libri, tra cui alcuni iscritti per Vita e Pensiero, uno in particolare ricordo, Istituire la vita, che è sul tema delle istituzioni e della loro vitalità, che certamente hanno a che fare col tema di oggi, e posso anche dirlo, in anteprima anche autore di un prossimo libro su questi temi delle istituzioni. E poi abbiamo Don Bernardo Gianni, abate della Basilica di San Mignato al Monte, a Firenze. Per chi non lo conoscesse, questo luogo è un luogo di una enorme magia, di un'enorme suggestione, sta proprio sopra Firenze, quasi con una postura benedicente nei confronti della città. È un... la Basilica, ma la comunità, e poi l'abate di questo luogo, è un punto di riferimento importantissimo del cattolicesimo fiorentino. Quindi, a loro io cedo la parola e anzitutto a Francesco Stotta. Bene, grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Allora, io, come dire, butto lì alcune riflessioni a partire dal titolo di questa parte, di questa giornata così ricca, così interessante, cioè la parola che guarisce. Ho interrogato un po' questo titolo e poi magari le cose, adesso le dirò un po' sinteticamente, poi Aurelio ci interrogerà un po' nel dettaglio. Allora, la prima questione che porrei è che se è vero che c'è una parola che guarisce, dobbiamo supporre, anzi, è più che una supposizione, dobbiamo sapere che c'è una parola che invece ferisce, che c'è una parola che fa ammalare. Questa mattina Giole Dix parlava, per esempio, di questa esperienza del sorriso del bambino. Ora, non è del tutto vero che gli viene per caso, gli viene perché l'ha visto nella madre, perché ha visto nella madre questa apertura, che è un'offerta, è un dire di sì alla vita dell'altro. Ecco, una parola che guarisce è già questo sorriso della madre che in qualche modo dice di sì alla vita del figlio, e qui si aprirebbe la questione che cosa significa essere figli oggi, ad esempio la metto fra parentesi, dire di sì alla vita dell'altro non come continuazione della propria, o a volte, devo dirlo, come maledizione della propria, ma la vita autonoma del figlio, questa esperienza nuova. Un figlio non è mai l'atteso, è sempre l'inatteso, è qualcosa che deve prodursi in una maniera singolare proprio. Questa apertura della bocca, come l'apertura dello sguardo, gli occhi, è un far uscire qualcosa da sé, non apre la bocca per, semplicemente per nutrirsi, per soddisfare un bisogno, ma è come aprire una soglia. Ecco, il campo della parola è una soglia che si apre tra me e l'altro, è un'offerta di comunicazione, ma non solo, di dialogo, di sorpresa reciproca, di reciproco godimento. Allora, una lingua è viva o morta, non semplicemente perché passa del tempo e cade in disuso, ma perché è viva se noi la sappiamo vitalizzare. e la seconda questione che pongo immediatamente è questa frase, la parola che guarisce, leggerla da un altro punto di vista, e cioè il nostro impegno nel guarire la parola, perché questo è il compito etico oggi di chi fa un mestiere come il nostro, legato alla relazione d'aiuto. Heidegger dice una cosa molto bella, che il linguaggio è la casa dell'uomo. Ora, le case le dobbiamo curare, ecco, noi dovremmo essere dei buoni domestici della parola, del campo della parola. La parola è vero che comunicazione è scambio, e qui entro nel merito proprio del mio lavoro come psicanalista, perché se avremo modo magari ci approfondiremo a questo aspetto. È vero che nella psicanalisi c'è il racconto del paziente in cui narra la sua storia, si dilunga anche troppo spesso in questa storia, ma la cosa interessante, la dimensione poi interessante, soprattutto nel lavoro di interpretazione, a un certo punto è passare dalla dimensione di storicizzazione che è molto importante, al punto in cui invece la parola diventa espressione della singolarità di quel soggetto. Cioè, come dire, tutti noi abbiamo una storia, tutti noi abbiamo ricevuto un nome, la genealogia, un nome, un cognome, e dobbiamo imparare a situarci in questa storia, e quindi significa pagare anche un prezzo, il famoso debito simbolico che si paga per chi ci ha inserito nel mondo, nella vita, eccetera, ma ad un certo punto in un'analisi bisogna aiutare il soggetto a mettere accanto al nome proprio, che è il nome ufficiale, il nome simbolico, qualcosa di più reale, di più singolare, che è, scusate, al nome ufficiale affiancare il nome proprio, che è il nome della propria singolarità. È qualcosa che prima le persone che si occupavano di poesia e letteratura esprimevano molto bene, che c'è un punto alla dimensione poetica della parola dove non c'è più, la questione non è più il senso, il significato, la comunicazione, ma qualcosa che individua il soggetto nella sua unicità e lo mette di fronte al suo destino. Quindi non è più mio padre, mia madre, mi hanno messo al mondo, cosa hanno combinato, mi hanno deluso, mi hanno frustrato, non mi hanno garantito abbastanza, eccetera, gli si fa pagare un po' tutte le colpe, questa, nell'analisi, in un'analisi viene fuori tutto questo. Ad un certo punto, grazie all'intervento della parola dell'analista, succede che c'è, come dire, un cambio di registro. Il soggetto a questo punto deve occuparsi non del desiderio dell'altro, non delle aspettative dell'altro nella sua vita, ma di cosa vuole fare lui del proprio desiderio, di cosa pensa di fare lui della propria vita. E c'è questa dimensione della parola, del verbo, che è veramente una dimensione legata, poi ci ritorniamo magari, all'esperienza del piacere. Prima ancora di imparare a parlare la lingua ufficiale, la grammatica, eccetera, la madre e il bambino giocano il linguaggio tramite quello che è la lallazione, la lingua materna, che non ha un senso, non ha un significato, se non esprimere in qualche modo questa cifra dell'umano, questo piacere di essere al mondo. L'escrizione è proprio dei primi momenti di contatto con la vita, come qualcosa di assolutamente prezioso per la costruzione del desiderio del soggetto. Allora, c'è da dire una cosa, ne parlavamo anche a tavola prima, che se c'è qualcosa che unisce l'esperienza religiosa a quella della psicanalisi, è la loro inattualità. Viviamo in un mondo che è fatto di parole, non si fa altro che parlare, ma è una comunicazione meccanica, algebrizzata, algoritmica, oppure è la parola come espressione di scarica psicomotoria, scarica muscolare. ma se vedete i dibattiti tra i politici, c'è proprio questa dimensione molto, se volete, grezza brutale della parola. Non c'è un gusto del parlare e soprattutto, adesso ci arriverò, dell'ascoltare. Quindi, religione e psicanalisi stanno dalla parte della parola. Lacan dice che l'etica della psicanalisi è un bene dire, cioè un saper dire bene, un saper entrare nell'ordine della parola, dello scambio umano, nel rispetto dell'altro, nella curiosità della persona con cui ci intratteniamo. E qui vengo all'altro aspetto che mi interessa molto mettere in luce, e cioè che sia per la religione che per la psicanalisi non si tratta semplicemente della dimensione parola come rivolgersi all'altro, ma di ciò che sostiene veramente fino in fondo l'esperienza del dire, ed è l'ascolto. In entrambi i casi, religione e psicanalisi, siamo di fronte ad un'etica del silenzio, il saper star fermi, il saper ascoltare, il saper far vuoto in se stessi per poter dare spazio alla parola dell'altro. Il silenzio, in questo caso, il silenzio con cui io imparo gradatamente ad ascoltare, il silenzio anche come analista non si smette mai di impararlo, è proprio per permettere alla parola dell'altro di trovare nel mio silenzio, nel mio ascolto, una cassa di risonanza. Quindi l'ascolto è la cassa di risonanza della parola dell'altro e deve ritornare all'altro. Quindi c'è un punto per chi fa il nostro lavoro che prevede una sorta di destituzione soggettiva. al nostro io al nostro io dobbiamo saper fare un passo indietro. Io uso spesso questa metafora anche perché ho lavorato molto con le patologie gravi, con le psicosi, che sono fondamentalmente un disturbo del linguaggio, un disturbo della parola soprattutto. Non c'è il linguaggio ma non c'è la possibilità del discorso della parola. Ed ecco, qui è veramente molto importante, uso questa metafora, arrivare all'altro a mani vuote. non sono qui immediatamente per darti una prestazione come nel mondo d'oggi, no? Si diceva anche a tavola si telefona e ti arriva la ricetta o ti si dice come devi fare, vai in internet e scopri tutte, ci sono i manuali per come si sta al mondo, per fare questo o quest'altro, per cavarsela nella vita. Ecco no, l'etica del silenzio prevede una costruzione molto più lenta, delicata, fatta di attese, di sospensioni, di rispetto proprio di quello che accade, quello che Freud chiamava l'attenzione fluttuante, saper cogliere nella parola dell'altro quel qualcosa che passa tra le righe. Intelligenza vuol dire saper leggere ciò che è inter, ciò che è tra, interpretazione è la stessa cosa, ciò che deborda dal discorso ufficiale, ciò che è i margini, i bordi del testo, insomma. Ecco, allora, la questione è come imparare a parlare? Questo vale anche per noi, anche per noi analisti, per voi che fate un lavoro pastorale, a parlare nel senso della misura, nel senso di imparare a riconoscere nell'altro qualcuno che è diverso da voi, irrimediabilmente diverso, e come impariamo ad ascoltare, ad ascoltare in questa dimensione, come direbbe Husserl, di epoche, di sospensione del giudizio. Faccio questa esperienza, qui sono stato invitato da Monsignor Sequeri due o tre anni fa all'Università Lateranense di Roma, questa esperienza molto interessante, psicologia, insegno psicologia della famiglia a persone come voi, sacerdoti o laici, che si occupano però di intervento pastorale nelle parrocchie, nelle comunità, eccetera. Ecco, la cosa interessante è come lavorare perché chi è in posizione di ascolto riesca ad arrivare a una sospensione del giudizio, dei suoi parametri morali, eccetera, no? Per esempio abbiamo affrontato questioni come le separazioni coniugali, avere un figlio omosessuale, i transessuali, tutte queste cose molto scivolose di oggi. La prima tendenza di tutti di anteporre come dire una dimensione morale, gli insegnamenti della Chiesa e lì abbiamo già fatto un'invasione di campo. Com'è che si impara ad ascoltare sospendendo il giudizio? Perché se si vuole ascoltare bisogna fare questa operazione un po' crudele con se stessi, con il nostro io, di fare appunto un passo indietro per permettere che emerga un po' la verità del soggetto. Come dicevo prima, essere cassa di risonanza della parola dell'altro implica un continuo lavoro di sospensione del proprio io, di messa tra parentesi. Mi fermo su questo punto perché questo, anche di questo se ne parlava prima Pranz, è la scommessa di oggi, cioè il tema della formazione delle persone che fanno quei mestieri che Freud chiamava impossibili, curare, educare, governare. E ci rientriamo noi psicanalisti, ci rientrate voi sacerdoti o comunque chiunque di voi eserciti un'attività di tipo pastorale. Grazie. Don Bernardo, tutto ci tengo a dirvi che abbiamo detto tante cose a pranzo ma abbiamo anche mangiato, eh? Se no magari vi preoccupate. E pure bene. E anche molto bene. E lo ringrazio di questo ma soprattutto dell'invito Aurelio, Don Giuliano per questa occasione che è data alla mia piccola e modesta esperienza di custodi di un luogo che Aurelio vi ha perfettamente descritto, un luogo che ha quasi iscritta nella sua architettura la pretesa di essere nella conca psidale un luogo di reciprocità di risonanza fra il brusio il gemito che sale dalla città ma anche il riverberarsi della parola del Signore essendo abitato quel catina psidale come vi è facile immaginare da un Cristo pantocratore peraltro insolitamente raffigurato quale Cristo gravido gravido perché porta in grembo la nuova creazione gravido perché effettivamente da lì scaturirà una parola che ancora non abbiamo ascoltato e che ci donerà cieli nuovi e terra nuova e segnalandoci come quello attuale del Signore è un soffrire non crucifisso ma soffrire di un travaglio per una gestazione di una novità che non ci è dato di poter per ora almeno raffigurarci ma solo immaginare fantasticare e devo dirvi che vivere in un luogo così naturalmente forma e plasma una ministerialità che per raccogliere le bellissime direi davvero esaustive riflessioni del Signor Francesco è anzitutto disporci ad una dimensione silenziosa di ascolto con una consapevolezza direi se posso dirlo visto anche il contesto monastico tipicamente benedettino cioè una umiltà che nasce dalla umiliazione che scaturisce dalla consapevolezza quotidiana del nostro limite della nostra fragilità della nostra vulnerabilità una vulnerabilità dove si sente agire con la sua tipica dinamica pasquale l'azione dello spirito santo che ti ricorda di essere incondizionatamente amato da un padre celeste che è sulle tue tracce che per certi versi prima ancora di ritrovarti desidera che tutti perda perdonarti la gioia del sentirsi ritrovato atteso abbracciato trasfigurato dall'intensità indicibile di una gioia che scaturisce da un incontro a quel punto autenticamente e desistenzialmente di piena comunione nel grembo stesso dell'amore trinitario dunque questa prospettiva mi porta a dirvi che non ho certo e non posso avere certo la pretesa di avere una parola che guarisce la mia semmai il Signore me la dona non può essere una parola che guarisce può essere una parola che eventualmente lenisce ma soprattutto una parola che prova a riorientrare riorientare una consapevolezza che mi sembra alberghi nel profondo del cuore soprattutto del nuovo e nuovissime generazioni la sensazione che spesso ti viene comunicata attraverso modalità che fanno della simultaneità digitale un appello ad una presenza altrettanto incondizionata soprattutto nelle ore della notte e quella tua presenza può restituire a qualcuno la percezione di essere vivo perché desiderato e originato da una esperienza che riconosci non più come eventuale entità metafisica ma come amore che ti interpelle e ti interpella perché ti ha desiderato ti ha creato ti ha generato ti ha condotto nella vicenda temporale esattamente perché tu sia esposto al dramma creativo della libertà ma nello stesso tempo alla consapevolezza di un limite che se non è costantemente abitato dai margini dai confini da una presenza che ti fa dal riverbero di quell'amore originante verifichi di essere in una sorta di deserto privo di segnaletica privo di prospettive dunque una parola riorientante una parola che lavora e dovrebbe lavorare attraverso l'ascolto anzitutto faccio miei i bellissimi versi di Mariangela Gualtieri su sull'assenza sul vuoto ci sono questi bellissimi schizzi che Mariangela delinea per donarci la percezione di essere una eccedenza in un'altra lirica parla di una sfolgoranza che in noi preme per combustare in fuoco a segnalarci che il primo grande dono che dovresti fare a chi ti ascolta è sentire che per forza di cose accogliendo l'eventualità della presenza dello Spirito nel tuo cuore non puoi non essere ferito dalla sua forza inesausta di eccedenza che ti ricorda come sempre dice Mariangela che nessun metraggio ci contiene nessun confine di sponda nessun nome è bastante in nessuna foto noi veniamo nessuna telecamera riprende per intero questo essere nostro che slegato si estende tutto impastato di infinità nostra parola dovrebbe riuscire a liberare anzitutto questa sorta di centrifuga esistenziale la dimensione quindi che abita e propizia un disorientamento nel disorientamento lasciando però nello stesso tempo con la tua disponibilità a rimanere ad esserci in un ascolto che non giudica che pazienta che fermenta con colui che te lo chiede la possibilità che non a caso nella regola di San Benedetto fin dal prologo a tutte le movenze di un possibile ritorno a colui dal quale ci eravamo allontanati proprio per la pigrizia e l'indisponibilità all'arte dell'ascolto dell'obaudire in una sorta di autoreferenzialità presuntuosa e seduttiva nella quale tutti noi ricaschiamo con la pretesa vagamente prometeica di potercela fare da soli e allora ecco lo sforzo è tuffarsi in questo vuoto che si crea con la centrifuga di cui vi sto fantasiosamente parlando forse effetto davvero che abbiamo mangiato e bevuto troppo bene oltre che parlato e ascoltato e d'altra parte De Mariangelo adoro questi versi che vi offro perché con la loro bellezza e intensità vi aiutino a cogliere la dimensione direi liberamente estetica artistica semplicemente bella dell'arte dell'ascolto e dell'arte del conio di una parola che per bellezza per intensità e soprattutto per autenticità scabra e ferita ha davvero l'efficacia liberatoria che l'emozione sa suscitare perché attualmente il nostro approccio guai se fosse un approccio moralistico medicalizzato che faccia della doverosità comportamentale una maglia stretta che riporti poi tutta la libertà effervescente che il Vangelo ci dona nelle maglie strette di una obbligatorietà che peraltro escluderebbe l'uditorio inquieto soprattutto dei figli di queste ultime generazioni che sono figli avvezzi a muoversi su scenari assolutamente indisponibili a strutture e concetti estrinsecamente normanti quindi si tratta davvero e lo dico non ho la presunzione di essere poetico ma con un linguaggio simbolico ma che vi riporti direi anche alla realtà di un potenziale pastorale che deve tornare ad abitare la notte la solitudine il silenzio la sommità dei vostri campanili i bordi dei vostri territori l'inusuale il non consueto il non avvezzo perché di fatto è lì che si annodano le ragioni della possibilità di un cambiamento esistenziale che pure si desidera quando stanchi di percorrere un deserto senza meta e senza origine si torna a patire l'assenza di una parola che con il suo dettato sillabico la sua intensità di cuore la sua bellezza evocativa ti restituisce la consapevolezza o ti dona per la prima volta la certezza di essere so di essere molto banale ma è così importante per qualcuno Maria Angela lo dice con espressioni insuperabili noi tutti non siamo solo terrestri lo si vede da come fa il nido la ghiandaia da come il ragno tesse il suo teorema da come tu sei triste e non sai perché e non sai perché noi nati noi forse ritornati portiamo una mancanza e ogni voce ha dentro una voce sepolta un lamentoso calco di suono che un po' si duole anche quando canta te lo dico io che ascolto il tonfo della pigna e della ghianda la lezione del vento e il lamento della tua pena col suo respiro ammucchiato sul cuscino un canto incatenato che non esce ascoltare anche ciò che manca l'intesa fra tutto ciò che tasce ecco perché credo che per liberare questo canto sepolto nel nostro cuore anche nella paradossalità di un canto ritmico magari in discoteca o a Sanremo la parola la parola evangelica come ci insegna il maestro ad affarsi soprattutto gesto quella performatività dell'abbraccio della comunione del tatto del respirare insieme e sentirsi così veramente coesi da un amore più grande di chi per qualche istante prova a esserti padre di chi per qualche istante prova a sentirsi figlio vorrei rilanciare diciamo un tema dopo questi due interventi iniziali che è stato evocato da Daniele Mencarelli nella battuta finale dell'incontro precedente quando parlava di ragazzi desiderosi di parlare delle domande lecite che sono le domande di sempre ecco questo mi pare che sia un ambito molto importante penso anche che dal punto di vista pastorale piuttosto pressante dal punto di vista delle attese cioè di parole che aiutino a riorientare in un tempo di grande smarrimento certamente diciamo la stagione del covid è stata una stagione che ha messo che ha alterato gli equilibri anche degli assetti giovanini io penso Francesco che fosse nella tua pratica clinica questo l'avrai constatato e appunto ci si assiste diciamo a una sorta di insufficienza di parole che sono le parole pubbliche che si ascoltano ad esempio nella pubblicità evocata stamattina come forma suprema dell'astuzia del pensiero oggi ecco però queste sono parole che alla fine risultano inservibili diciamo per riuscire a dare un nome alle proprie al proprio sentire e soprattutto per riorientare il proprio percorso ora appunto volevo che voi appunto in qualche modo ci deste qualche diciamo percezione dal rispettivo punto di vista di questi vissuti vissuti giovanili perché se è vero che occorre creare una condizione di vuoto e di ascolto per appunto essere partecipi di questi vissuti forse anche inediti dei giovani di questa generazione ci sono perciò c'è anche l'attesa però di parole che dentro quel contesto riescano a riorientare non siamo una sorta di apofatismo dell'accompagnamento certo non è un accompagnamento prescrittivo un accompagnamento che sa già le risposte ma un accompagnamento che è profondamente consapevole dei tempi e delle dinamiche imprevedibili della libertà di ciascuno vorrei che appunto vi intratteneste un attimo su questo anche sulle difficoltà oggettive perché io penso che a fronte di un inedito antropologico come per molti aspetti il vissuto giovanile odierno non sia così facile appunto riuscire a pronunciare parole appunto che abbiano una forza di guarigione la questione che poni è di una attualità e drammaticità estrema perché oggi ci troviamo di fronte delle forme di disagio giovanili ai limiti dell'intrattabile soprattutto per le persone della nostra generazione che devono fare un grosso lavoro anche se lavorano da tanti anni anche se praticano da tanti anni per cercare di cogliere che cosa è cambiato nel frattempo nel mondo e che cosa ci stanno veramente dicendo i giovani con la loro espressività ai limiti a volte dell'incomprensibile o un eccesso di motismo oppure un'esplosione dal punto di vista degli agiti sembra proprio che la dimensione della parola sia quasi che non sia più familiare ma è chiaro che questo è il contrapasso dell'incapacità delle generazioni adulte di avere a che fare invece con una parola che tenga strutturata ecco come dire allora che cosa voi sapete che dopo il covid c'è stato un aumento sensibile delle depressioni giovanili dei tentati suicidi degli stati d'ansia o delle forme di apatia di chiusura questa vergogna che tiene i giovani in questa condizione un po' come quella degli kikomori giapponesi chiusi in casa afflitti dalla vergogna del sociale dell'incontro con l'altro chiusi in casa davanti al computer nella loro stanza eccetera allora che cosa ha rappresentato l'esperienza del covid un po' per tutti noi ma in particolare per i giovani ha rappresentato una sorta di ferita letale all'onnipotenza del mondo della tecnica della scienza cioè il salto di specie in fondo ci ha messo di fronte alla constatazione che non siamo degli dèi immortali e che basta un niente perché quello che credevamo essere un mondo totalmente colonizzabile dai nostri saperi dalle nostre conoscenze invece mostrasse tutte tutte le sue lacune quindi la promessa che le generazioni adulte degli ultimi 20-30 anni hanno fatto alle generazioni più giovani cioè voi non preoccupatevi siete come dire assolutamente garantiti vi abbiamo offerto nella società occidentale ovviamente vi abbiamo offerto un mondo assolutamente sicuro in cui potrete coltivare felicità e benessere ecco si è rivelata una promessa che si è sciolta come neve al sole ma la cosa peggiore per i nostri giovani è che tutto questo ci può essere anche un fallimento voglio dire ci si può anche sbagliare si possono fare anche delle grandi castronate no? diceva prima che era intervenuto scusate Maria Pia diceva i fallimenti degli adulti ma benvengano i fallimenti degli adulti non c'è niente di peggio per un figlio di avere un genitore perfetto di avere un genitore geniale spesso è il prodromo per una condizione psichiatrica nel figlio quindi i fallimenti ci stanno non è questo il punto ma qual è il vero peccato della generazione adulta di oggi delle istituzioni di oggi di chi le rappresenta di non essersi fermati un attimo a considerare che cosa era successo ad elaborare il lutto del proprio desiderio di onnipotenza a tornare a pensare la vita l'esistenza il lavoro che tutti facciamo le pratiche delle istituzioni eccetera come qualcosa che deve stare dentro dei registri di senso quindi nell'accettazione dei limiti delle mancanze e non in questa corsa continua alla conquista del creato con tutti gli effetti che vediamo ad esempio sull'ambiente tema che sta molto a cuore di una buona parte dei giovani d'oggi non a caso allora io credo che questo sia l'imperdonabile cioè una generazione adulta che non sa interrogarsi sui propri errori che non sa elaborare il lutto la stessa cosa che è successo dopo la seconda guerra mondiale gli strumenti che erano serviti per la guerra sono stati riciclati per la conquista scientifica ma senza nessuna elaborazione questo crea nelle generazioni successive degli effetti collaterali un contrapasso di tutto questo allora io lo vedo nella clinica quello che imparo cercando di ascoltare questi giovani che portano delle forme di sofferenza veramente molto angoscianti per chi ascolta che quello che chiedono è di non essere rassicurati cioè della serie mi spiego l'atteggiamento dei genitori e questo è comprensibile ma spesso l'atteggiamento dei terapeuti e degli insegnanti è di dire no guarda ce la puoi fare cerca di considerare gli aspetti positivi tu vieni qui a parlarmi della tua angoscia del tuo dolore no ma guarda che non è vero perché guarda quante cose belle sai fare quante potenzialità hai il pensiero positivo eccetera i giovani vogliono essere presi sul serio cioè vogliono che qualcuno prenda sul serio il loro dolore che qualcuno dia dignità alla loro sofferenza alla loro angoscia bisogna ripartire da lì bisogna anche qui bisogna in qualche modo saper ascoltare saper stare fermi e non è semplice perché sentire un giovane di 20-25 anni che ti parla dei vissuti del proprio corpo del senso di solitudine dei pensieri di morte che ha della devastazione interna che lo corrode ecco ti viene sempre voglia di cercare come dire di offrirgli un sorriso e io ho trovato dei giovani che quando ci ho provato mi hanno detto ecco anche lei come i miei genitori cercate sempre di edulcorare le cose cioè qual è la questione che siamo una generazione di adulti terrorizzati dal dolore dei nostri figli dal dolore dei giovani ma il dolore in realtà è un'esperienza fondamentale della vita come l'angoscia non c'è non c'è gioia che si produca se non anche attraversamento se non grazie all'attraversamento di un dolore attraverso l'attraversamento di un lutto altrimenti è quella forma di felicità che ci propone il mondo del consumo il benessere ecco è questo è un mondo fatto di centri benessere ecco i giovani d'oggi secondo me non quelli più logicamente più sensibili che spesso sono quelli che stanno male non ne possono più di tutto questo di questa tendenza securitaria del nostro mondo che tende a distruggere completamente il sentimento della vita quindi ritorno sulla questione della formazione di chi fa un lavoro come il nostro perché si tratta di avere a che fare con la nostra angoscia com'è che cerchiamo di in qualche modo sedare la nostra angoscia per diventare capaci di quell'etica del silenzio che significa rispetto di ciò che il paziente ci sta insegnando grazie Bernardo tu che abiti in un luogo che immagino sia anche molto cercato per come dire la pratica dell'ascolto ecco che che pratica hai che 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 forme del sentire attiva questo questa attesa appunto di trovare appunto dei luoghi dove uno in qualche modo possa trovare lo spazio per riorientarsi perché spesso oggi alla alla chiesa appunto viene viene chiesto anche questo ecco un primo pensiero non può che andare di cuore ai ai lontani cioè a coloro che veramente a San Mignato nelle nostre comunità ecclesiane nei nostri spazi tra virgolette sacri probabilmente non giungeranno mai o quasi mai o forse per sbaglio perché condotti in qualche gita scolastica o qualche funerale e devo dirvi che è anche nella consapevolezza di questo di questa autoesclusione così massiccia di tante nuove generazioni dai sentieri del mistero che mio cuore freme perché perché effettivamente quando ho il dono e la grazia di poter accogliere per esempio e scusate se vi riporto davvero a un livello molto basico si direbbe una gita scolastica di un liceo della Repubblica o del Comune quindi ragazzi che frequentano ragazzi e ragazze che frequentano ambienti molto lontani dalle nostre ecclesiasticità io ho la fortuna di permettere loro un percorso romanico simbolico che include nella cripta l'oscurità e lo smarrimento della morte la sua oggettività sottolineata dalla presenza delle reliquie di San Mignato Proto Martire di Firenze l'accesso ad uno spazio che si raggiunge attraverso scale ripide poco illuminato la possibilità restituita a queste nostre ragazze e ragazze di tornare ad ascoltare la loro corporeità nel momento in cui essa è immediatamente sollecitata attraverso i sensi nell'immaginazione della morte stessa e di non farlo semplicemente perché indotti da una situazione virtuale artificiosa come può essere un film come può essere anche un'esperienza di lutto familiare dal quale ci si difende spesso in un'esperienza non a caso di autoimmunità qui siamo in un contesto di esplorazione magari anche di svago di festa quindi anche di leggerezza ed è lì che veramente scopro tutta la grande bellezza della della dinamica trinitaria nel suo essere mistero pasquale che ci accompagna e ci disperde letteralmente nel vuoto nel silenzio nell'oggettività nuda e sotterranea del venerdì e del sabato santo perché è dalla possibilità credo accordata al nostro cuore alla nostra intelligenza mediante il dono della fede di poter evangelizzare in senso pieno il vuoto il silenzio l'assenza la delusione la disperazione del venerdì e del sabato santo che forse veramente espone il cuore di questi nostri ragazzi a una possibilità abbastanza rara per loro l'imminenza gratuita di un amore che giunge loro dall'alto senza schiacciarli senza condizionarli senza deformarli e che restituisce una spirale luminosa di verticalità che in un certo senso solleva la loro sensorialità e il percorso che si fa molto semplicemente salendo verso il catina psidale quasi fossimo protagonisti di una piccola e creativa divina commedia alla ricerca di un crinale che squarci questa insuperabile orizzontalità priva di qualità spaziale e temporale uso volentieri con voi questo paradigma architettonico e quasi turistico ma lo faccio proprio perché in realtà questo modulo penso possa essere impiegato anche da chi non ha come me la fortuna e l'agevolazione di abitare un luogo di quella pregnanza estetica perché in realtà il metodo è il solito è davvero non censurare non truccare non smaltare il vuoto l'assenza la non parola la disperazione la patologia tutto quello che spesso noi per primi operatori pastorali come si suole dire con una delle tante orrende coniazioni della nostra contemporaneità teniamo lontano perché rimetterebbe in discussione anzitutto la mia parlo personalmente poca fede la mia scarsa vita pneumatologica la mia discontinua attitudine a fare della parole delle sue regole austere la disciplina che mi rende autentico discepolo e quindi il tutto si coagula intorno a proposte preconfezionate fondamentalmente che sono delle scorciatoie per l'appunto non pastorali pastoralizzate che io vi invito senza provocazioni toscaneggianti ma insomma vi invito veramente a rispedire al mittente cioè perdetevi voi per primi se volete riaccompagnare verso la luce credibilmente chi la sta cercando rifugite questo riduzionismo della ecclesialità che è sposa del Signore Gesù dunque la sua una postura di attesa di speranza escatologica quindi una tensione un logorio perché logorante aspettare ma è la prospettiva che effettivamente rende la nostra testimonianza la nostra non parola la premessa di una parola veramente liberante ed è quello appunto che mi sento di suggerire in un momento storico in cui effettivamente uscendo dalla pandemia come molto giustamente è stato detto si avverta una sconfitta strisciante della qualsiasi volontà di investire un minimo in un futuro diverso dal presente che viviamo anche perché il presente della nostra geografia è circondato da cortine di guerra che agiscono anch'esse nella loro capacità di violentare questo sentire non sentire il tempo del domani dei nostri giovani e se la chiesa si trasforma in una comfort zone veramente abbiamo fallito tutto e credo che che la lacerazione che la parola domenica dopo domenica imprime al nostro cuore le nostre piccole certezze anche attraverso perché negarlo la fatica controcorrente che dobbiamo fare per ritornare da una foce piatta alla limpidezza impetuosa della sorgente della fede stessa credo sia il percorso che possiamo condividere per una dimensione non genericamente parlando di credibilità ma uso una parola che pronunciata di fronte al Monsignor Perangelo ha tutta una una pregnanza speciale una affidabilità che è molto molto feconda credo e che tra l'altro ancora una volta nelle Eucaristie nel suo metterci a contatto vivo con la morte di Cristo assume tutto quel rilievo paradossale che ci permette di essere persone che con la consapevolezza dell'eccedenza parlano della morte sapendoci riconoscere già i semi di una vita che nessuno più sperava ecco credo che questo possa essere uno stile una modalità che che forse davvero riaccende qualcosa in quello che è un potenziale di amore amato e ricevuto che trasforma la vita in una figliolanza che che in fondo il maestro è venuto a donarci a piene mani ecco io adesso darei la parola a voi perché alle cinque è prevista la conclusione di una giornata che è stata davvero molto intensa e quindi darei a voi la parola in forma di domanda oppure anche di considerazioni a margine degli interventi che Francesco Stopo e Bernardo Gianni ci hanno offerto esiste un conflitto tra la parola della scienza e la parola della fede nel guarire il malessere dei giovani e degli adulti buongiorno io sono Don Mattia volevo fare una domanda perché ascoltando i vostri interventi in particolare il professor Stoppa mi sembrava di sentire risuonare un po' le parole di François D'Oltot adesso io non sono uno psicologo però mi veniva in mente questo suo studio sulla lalazione sul bisogno che viene oltre il desiderio il linguaggio come ciò che ci permette di affrontare un desiderio che non è solo bisogno però d'altra parte lei giustamente ci consegna il bisogno anche del silenzio quindi di lasciare una cassa di risonanza e non aver sempre una parola da dire come trovare la misura la giusta misura nel senso che a volte nei colloqui è vero che non mi trovo mai davanti dei neonati che lallano ecco però a volte l'esperienza è quasi quella di una nuova rinascita soprattutto di fronte a esperienze faticose dolorose o a grosse scelte che si affrontano ed è proprio come rinascere come scegliere di nascere a una professione a una relazione a una identità che si scopre in questa rinascita a volte serve anche fornire delle parole che l'altro non sempre ha e quindi come stare nel gioco del silenzio che lascia risuonare o della parola di cui l'altro forse ha bisogno ma io facevo così risuonare solamente la considerazione che è stata fatta che siamo in un periodo in un tempo in cui c'è molto trasferimento di dati e non forse di comunicazione dove ci si ferma anche la comunicazione non verbale si guarda si appunto si dà come abbiamo detto ci si dà del tempo anche per il silenzio e allora però la mia domanda un po' questo che non è una domanda pratica cioè sul come si può fare però ci accorgiamo soprattutto magari impegnati nella vita dell'oratorio che è difficile far passare questa idea questo questo modo anche di operare con i ragazzi i ragazzi hanno bisogno di questa cosa allora uno si accorge dà del tempo anche gratuito prima si parlava di avere proprio la gratuità del non pagare il servizio per ottenere qualche cosa però dall'altro lato ci sono poi un mondo adulto che non ha questa sensibilità e allora uno che è impegnato anche nell'accompagnamento pastorale non solo dei ragazzi ma di tutto un mondo adulto e tante volte è difficile quasi sgomitare per poter magari occupare degli spazi dei luoghi farli abitare e tante volte però c'è una controtestimonianza quindi come noi possiamo magari da sacerdoti ma da chi è un po' impegnato come poter essere anche di aiuto per il mondo adulto benché vabbè sono prete giovane vabbè benché sia sacerdote da giugno insomma a partire dal padre Gianni una parola sulla chiesa di oggi e sul ministero di papa Francesco che riceve penso le frecciate più grandi proprio all'interno di alcuni membri della chiesa ma anche autorevoli proprio perché parte dalla realtà dell'umano estremamente ferito l'immagine dell'ospedale da campo piuttosto che rispetto a un'immagine di chiesa più presunta che reale ordinata dove tutto è catalogato dove le regole sono chiare dove i passi da fare o da non fare sono altrettanto chiari e dove invece uno colloca nella situazione di oggi del mondo di oggi o del contesto umano di oggi questa parola che apparentemente sembra come dire che non metta ordine ma che crea ancora più disordine quindi la fatica io dico la bellezza io mi sento fortunato di vivere questo tempo della stagione della chiesa che forse meno chiaro nello scaffale tutto a posto e sembra invece un disordine che però dice questa è la vita della gente cosa dice la parola cosa dice il messaggio cristiano a questo tipo di umanità che vive tutte queste situazioni partendo dall'immagine dei lontani e noi ci accorgiamo che sono sempre più le pecore fuori che quelle dentro dall'ovile e che comunque con tutte le situazioni di vissuto così fortemente segnate a volte dal male o dalla ferita grazie direi che sono quattro domande piuttosto di peso e io direi che appunto con le domande abbiamo concluso perché aprono le risposte che forse poi riapriranno altre domande come nella dinamica diciamo che sono domande che ci fanno digerire grazie sono domande estremamente interessanti ma effettivamente meriterebbero altre due tre ore brevemente io direi magari ci fosse un conflitto fra scienza fra discorso della scienza e discorso della psicanalisi o discorso della religione perché un conflitto vuol dire che ci si riconosce reciprocamente e che si può cominciare anche a confliggere e che può diventare anche a dialogare in maniera interessante quello che diceva Monsignor Sequeri stamattina che la religione non deve trascurare il tema della natura per esempio non deve porsi inunicamente nella dimensione sovranaturale così come la psicanalisi solo nella dimensione psichica quindi sarebbe molto interessante questo questo scambio questa contaminazione reciproca bisogna dire che non esiste però a ricordi logica una parola della scienza la scienza è fatta di linguaggi è fatta di algoritmi è fatta di dati mentre la dimensione della parola subentra in esperienze che toccano la spiritualità che toccano la questione come nella psicanalisi della soggettività Lacan diceva il soggetto della psicanalisi è proprio ciò che viene precluso in qualche modo dalla scienza perché se lo scienziato mette in gioco la sua soggettività difficilmente riesce a produrre degli effetti anche per noi interessanti forse oggi io non me ne intendo ma quello che origlio della meccanica quantistica eccetera forse qui anche nella scienza si stanno aprendo però ci sono delle aperture interessanti che relativizzano molto questo aspetto così molto performativo produttivo finalizzato della scienza forse ecco si sta arrivando si sta arrivando forse alla possibilità magari di un conflitto e di un dialogo allora devo dire che quando parliamo di silenzio bisognerebbe anche intendere se il silenzio non è il mutismo è il silenzio del mio io io posso parlare all'altro in una dimensione di silenzio cioè faccio tacere i miei pregiudizi i miei preconcetti il mio bisogno assolutamente naturale di leggere immediatamente a partire dal mio pensiero il pensiero dell'altro cosa che ci viene naturale ci vogliono anni di analisi e non basta ancora per riuscire a trattenersi da questo vizio dell'umano ecco il silenzio è già qui è nel rispetto dell'autonomia della parola dell'altro e questo si manifesta anche quando parlo per esempio è molto importante quando ci confrontiamo con qualcuno dialoghiamo con qualcuno tener conto dell'aspetto erotico della comunicazione erotico vuol dire che tono di voce uso come adopero il mio sguardo ad esempio voi sapete che lo psicanalista non a caso si siede dietro cioè non gioca sullo sguardo quando inizia l'analisi vera e propria è come dire non è lo sguardo che è sempre qualcosa di un po' feroce da un certo punto di vista è l'ascolto quello che è interessante ecco quindi silenzio non vuol dire necessariamente stare zitti significa un uso della parola che sia di rispetto che sia di misura ecco e che porti con sé questa dimensione del piacere della parola quando prima insomma alludevo alla necessità oggi la necessità etica oggi di correre al capezzale della parola è proprio in questo senso di ritrovare un po' a tutti il piacere della parola e dell'ascolto perché questo è proprio l'umano in qualche modo l'esperienza per l'antonomasia dell'umano ecco poi questa domanda come fare oggi in realtà molto complesse per creare dei campi di ascolto e di rilanciare un po' una dimensione anche di dialogo di comunità qualcosa del genere qui meriterebbe il prossimo convegno che è una domanda assolutamente cruciale questa come ce la caviamo com'è che tentiamo insomma di uscire da questa rovina della parola e ci mettiamo un po' tutti a tornare a comunicare non solo a livello di dati e di algoritmi ma anche di affetti e di complicità umana rispondo credo forse soltanto a quest'ultima domanda perché o meglio provo a risponderle molto semplicemente evocando forse quei due principi in Evangelii Gaudium che il Papa ha introdotto alla nostra consapevolezza di credenti e alla nostra vita ecclesiale il tempo è superiore allo spazio e la realtà è superiore all'idea ecco credo che se ci si pensa a quanto possa entrarci con difficoltà questa prospettiva una Chiesa direi autocosificata nel suo sentirsi in qualche modo oggettivamente dato una volta per sempre mancando alla ricezione dinamica e creativa di ciò che lo Spirito le dice le chiede trasformandola per tanti versi in quelle che sono le le modalità con cui essere prossima ad una umanità che cambia che felicemente cambia e che interrogandoci cambia magari anche inquietandoci ma cambia questo è il dato di fatta e quindi oltre ogni oltre la Chiesa dovrebbe essere maestra nel superare quelle che sono delle barriere che si dà più di autocertificazione di autorassicurazione ma segnalando così di mancare alla sua primaria testimonianza che questa fede direi incondizionata e proprio per questo generatrice di speranza che che l'amore accolto dal padre le dona per essere accanto a Gesù e con lui disponibile anche a immergersi oltre lo squarcio del velo del tempio e quindi questa è una prospettiva appunto che ci restituisce ci restituirebbe anche una torno a dirla anche una creatività immaginifica che non vuole essere una nostalgia sessantottina la fantasia al potere naturalmente ma ma qualcosa che però dona a tutti noi e devo dirlo perché no anche a tutti noi presbiteri la la consapevolezza che se non sia un po' poeti un po' artisti davvero manchiamo a all'obbedienza vera al Vangelo ecco gliela direi così e in questo Papa Francesco è una persona che libera che scuce e che nello stesso tempo raccorda ravvicina in una dimensione per cui c'è sempre qualcosa di più grande di più in là che ci obbliga ad allungare il passo senza paura e con questa grande confidenza nel mistero del tempo che che in fondo come canta la maresciala nel Cavaliere della Rosa è creatura di Dio e dunque anche il tempo deve obbedirgli al Signore questo dà a noi in realtà una grandissima libertà una grandissima gratuità un'ultima parola solo per chiudere per ringraziare ancora e per salutare lì c'è scritto conclusioni ma capite bene che è meramente ornamentale questa parola perché però una conclusione personalmente la trarrei e cioè che abbiamo fatto bene diciamo a ampliare i registri attraverso i quali la nostra formazione si può alimentare perché credo sia stata una giornata bellissima anche solo perché abbiamo ascoltato anche linguaggi che non sono quelli che noi preti siamo abituati ad ascoltare e credo questo abbia fatto parte anche un po' dell'efficacia di questa giornata quindi anche a nome di Don Ivano diamo appuntamento all'anno prossimo primo lunedì di febbraio segnatelo già sull'agenda noi troveremo il tema dell'anno prossimo per il quale abbiamo anche già ricevuto un suggerimento e quindi ci pensieremo penso che abbiamo fatto bene anche a far diventare questa formazione del clero anche ospitale per chi al clero non appartiene e anche questo diciamo lo teniamo perché è bello quindi grazie a tutti e buona serata e allora naturalmente tutta questa giornata verrà messa a disposizione in registrazione sui canali YouTube e poi vediamo nel limite del possibile anche di questi registri anche i dialoghi eccetera però di farli ricadere anche in scritto sulla rivista vedremo insomma a come grazie e buona serata grazie a tutti grazie Grazie a tutti.